Quello che facciamo questa sera, al di là di questa intro un po' per cercare di mettervi al vostro agio è quello di fare una lunga carrellata su quelli che sono i vari fattori scatenanti che ogni giorno andiamo a discutere sul gruppo, in particolar modo puntando il focus su quelli che non trovate sulle linee guida o che comunque sono appena accennati sul libro, che sono gli ultimi che abbiamo aggiunto che vengono dritti dritti dell'esperienza clinica, che sono in pratica tutti i vari aspetti che toccano il sistema immunitario dal punto di vista più delicato, quindi dal punto delle sue regolazioni più fine queste cose qui e tante altre robettine che escono un po' dalle basi ma sono proprio materie di approfondimento è importante perché abbiamo visto che ci sono diverse casistiche che si risolvono solamente andando proprio a lavorare sulle regolazioni molto molto di fino le spieghiamo in modo semplice, carino, piacevole, amichevole, tranquilli però anche se sono spiegate in modo semplice comunque vi aiuteranno a capire molto meglio i meccanismi conosciete tutti la dottoressa Cavallini, vero? Federica per gli amici, ok? qualcuno l'ha vista dal vivo, qualcuno un pochino meno però è bravina anche lei, spiega molto 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 bene allora cercheremo di essere un po' veloci magari sui punti quelli base quindi no gluti, no latticini, lo spiegheremo però cercheremo di essere un po' più rapidi perché magari per qualcuno sono concetti che hai già sentito in 5 convegni, in serate, tutti i giorni quindi magari non ti calcare la mano e magari cercheremo di prendere un po' più di tempo sugli argomenti che sono un attimino più nuovi anche perché quello che vi spieghiamo stasera potremmo fare un convegno di 5 giorni e ancora non basterebbe il tempo per andare a fondo di tutti gli argomenti quindi per forza bisogna che un po' andiamo a assuntare allora giusto per capirci, quanti con la psoriasi? dai che facciamo psoriasi contro dermatiti? quanti con dermatiti? quanti con patologie che non sono l'una e l'altra? chi ne ha più di una? i migliori dici Monica, dopo ti diamo il premio ma chi ne ha più di... Monica sui premi te la batti bene allora detto ciò, noi parliamo di... alla fine anche se ci sono diverse patologie coinvolte bene o male si può fare un unico assunto perché i meccanismi che sono dietro a tutte le patologie che ci coinvolgono sono fondamentalmente molto molto simili magari per qualcuno c'è più un accento su alcuni fattori per altri su altri però è importante per tutti che andiamo oltre ai nomi delle patologie perché i nomi si danno per motivi clinici per poter avere poi una diagnosi, per avere poi una terapia però in realtà difatti al di là dei nomi che noi diamo alle malattie occorre superarli per arrivare ai fattori che ci sono alle basi e questa sera andiamo a parlare un po' di quello vai Fede ok ecco allora come vi ha già accennato Paolo noi vorremmo partire analizzando quelli che sono tutti i fattori che influenzano la psoriasi non tanto per annoiarvi ma per capire dove sono i punti in cui abbiamo margine dove si può andare a lavorare per intervenire ok quindi partiremo appunto con qualche cenno di eziopatogenesi per capire come intervenire in questi fattori lo sapete già tutti, lo ripetiamo la psoriasi comunque è una patologia che ha una componente genetica ok quindi chi poi sviluppa la psoriasi eredita, è un portatore di alcuni polimorfismi di geni quindi non è un singolo gene ma eredita un insieme di geni facciamo una domanda cattiva di che cos'è un polimorfismo dai alzi la mano di chi sa cos'è un polimorfismo dai dai uno lo stavo dicendo, vi ha interrotto e lui è cattivo lo sapevo, lo sapevo ho visto, quando ho sentito polimorfismo mi hanno cambiato faccia quindi bisogna spiegare che cos'è allora praticamente che cos'è un polimorfismo o mutazione è in pratica significa che il gene che abbiamo realizzato dal papà o dalla mamma o se siamo fortunati da tutti e due non è la versione perfetta c'è quella che lavora al 100% ma è una versione tra virgolette difettosa quindi può avere qualche anomalia di funzionamento che può essere più grave o meno grave ovviamente questo polimorfismo può riguardare qualsiasi gene che poi si traduce in enzima barra proteina che non funziona come dovrebbe ok, più chiaro così? cos'è il polimorfismo? dai niente, quindi si eredita un gruppo di geni quindi sono più geni coinvolti che determinano sia caratteristiche a livello cutaneo sia una caratteristica risposta immunitaria su queste predisposizioni genetiche intervengono altri fattori la cosa comune è che gli studi dimostrano che i geni coinvolti nella predisposizione alla psoriasi sono coinvolti anche in altre malattie autoimmune il morbo di Crohn, la celiachia, la spondilite anchilosante quindi è questo per ribadire cose che poi ribadiremo anche più avanti che spesso noi abbiamo un approccio per la patologia autoimmune senza necessariamente entrare nel merito di una malattia piuttosto che un'altra perché alla fine i geni che coinvolgono e che poi si estrinsecano a una manifestazione clinica spesso sono gli stessi cosa vuol dire? Estrinsecano? no dai adesso me lo dite questo estrinsecano vuol dire che si esprimono che quindi da latenti poi diventano effettivamente manifesti eh ragazzi è il ripasso è il ripasso ok quindi si parte da una predisposizione genetica su questa predisposizione genetica incidono nei fattori ambientali tra cui appunto l'alimentazione, le infezioni, i traumi, i farmaci e lo stress questo determina un tipo di risposta cellulare cellulare, le cellule coinvolte sono i cheratinociti quindi le cellule dell'epidermide e le cellule del sistema immune l'interazione di questi tre gruppi di fattori può eventualmente scatenare e manifestarsi clinicamente con la psoriasi ok quindi ricapitolando abbiamo una componente genetica che ci rende, che ci predispone a reazioni infiammatorie e a reazioni autoimmuni abbiamo dei fattori ambientali che diventano degli stimoli immunogeni al quale poi chi è predisposto risponde con una reazione autoimmuni e abbiamo dei fattori ambientali che manifestano e mantengono l'infiammazione e questo si traduce in una risposta cellulare con la produzione di molecole infiammatorie e quindi si ha la psoriasi da questo si può dedurre che per definizione la psoriasi è una patologia infiammatoria autoimmune vorremmo spiegare perché tante volte ci capita di vedere che ci arriva qualcuno in ambulatorio e dicono mi hanno detto che è una malattia autoimmune il sistema immunitario è impazzito e reagisce contro me stesso, contro l'organismo ecco il concetto è diverso, la malattia autoimmune non è un sistema immunitario impazzito è un tentativo del sistema immunitario di reagire contro una tossina contro una molecola ritenuta dannosa attraverso l'infiammazione sta a noi poi capire qual è il nostro nemico, qual è la molecola che ci sta disturbando se non lo capiamo per alcuni è più comodo dire il sistema immunitario è impazzito ma il nostro sistema immunitario rappresenta l'evoluzione di anni e non è, non impazzisce così a caso in maniera così comune, sta cercando di difenderci dobbiamo interpretare questo tentativo di difesa dobbiamo capire da cosa ci sta cercando di difendere e come lo sta facendo e il meccanismo che ha appunto è l'infiammazione cioè scatena infiammazione quindi anche l'infiammazione non deve essere vissuta come qualcosa di negativo a priori è la nostra difesa che poi però va modulata, va gestita e va limitata nel tempo quindi il nostro sistema sta cercando di difenderci da qualcosa che ci dà una reazione esistono quindi dei fattori immunogeni, qualcosa che ci dà fastidio qui intervengo io, altra domanda bruciapello di quelle... su qualcosa che ci dà fastidio chi è che ha chiaro il meccanismo del mimetismo molecolare? dai chi è che se la sente di spiegarlo? vabbè dai tocca a te tocca far girare un po' di vino per tutti qua mi sa allora, questo è un concetto chiaro che va capito perché poi serve per spiegare tutto il resto questa parolaccia che vuol dire mimetismo molecolare dovete immaginarvelo un pochino come un camaleonte cioè quando il camaleonte non vuole essere visto, cosa fa? cambia il suo colore in modo tale che diventi uguale a dove è appoggiato e quindi diventa molto più difficile da individuare tanti di nostri poco amici invasori usano lo stesso stratagemma perché ovviamente che cosa succede quando un batterio, un virus o chi per lui passa alle nostre difese fisiche ed entra al nostro interno lo sistema immunitario lo percepisce subito come estraneo, ovviamente si attiva per eliminarlo quindi cosa può fare lui? può cercare di nascondersi in maniera tale da non essere rivelato come si fa a nascondersi all'interno di un organismo? è vero che da una parte si possono utilizzare pieghe, anfratti dove magari c'è meno passaggio ma la maniera migliore è quella di nascondersi dal punto di vista antigenico questa parola antigenico deriva da antigene e qua chi sa che cos'è l'antigene? ok, adesso ve lo spiego io l'antigene è una piccola sequenza che può essere di zuccheri piuttosto che di amminoacidi che in pratica sono come una firma ok? è in pratica un sistema che identifica un certo tipo di cellula, un certo tipo di molecola e il sistema immunitario funziona riconoscendo gli antigeni come propri o come non propri che succede se un batterio o un virus utilizza un antigene molto simile a quello umano? succede che in pratica l'organismo non riesce più a capire se quell'antigene è proprio o non è proprio per cui lo fa confondendolo con un proprio in un primo tempo lo lascia passare quindi anziché distruggere l'invasore subito fa in modo che questo invasore possa replicarsi, replicarsi, replicarsi fino a che però arriverà a un punto in cui sarà talmente espresso, sarà talmente numeroso questo antigene che a quel punto il punto di domanda scatterà il sistema immunitario comincerà a dire sì tu sembri mio però c'è qualcosa che non mi torna e di conseguenza capirà che è un estraneo si accorgerà di essere un invasore lo eliminerà però lui che farà? il problema comincia qui quando lui metterà in memoria quell'antigene come antigene non più proprio ma estraneo quindi nel nostro organismo avendo quello stesso antigene espresso magari su cellule, su tessuti o quant'altro quello che prima era un self diventa un non self e quindi l'organismo il loro sistema immunitario reagisce contro quell'antigene che stavolta è proprio pensando che fosse quell'invasore chiaro il meccanismo di dimetismo molecolare e questo è tipico dell'Epstein-Bard di Cito-Omegalovirus è un sistema sia virale che batterico lo streptococco per esempio utilizza una tossina che è molto simile alla cheratina la guttata, la psoriasi guttata nasce proprio da questo meccanismo di confusione tra la streptolisina e la cheratina 14 chiaro il discorso ed è ovvio che questo problema non esiste solamente con invasori reali come può essere il virus come può essere un batterio ma esiste anche per alcuni alimenti per esempio il glutine è una sequenza di amminoacidi molto molto simile quindi quella che è la proteina gluteinica può dare il metismo molecolare ed essere confusa con un self chiaro il concetto? dubbi? se dovete fare domande fatele subito perché sennò poi non capite il resto sono così bravo a spiegare le cose? sì dai facciamoglielo credere sì dai meglio va ok quindi allora come ha detto Paolo ci sono questi fattori immunogeni il nostro sistema immunitario si attiva per reagire contro queste sostanze si arrabbia però a volte scatena una reazione che fa anche dei danni che abbiamo appunto identificato come l'infiammazione quindi l'infiammazione di per sé è una reazione importante perché serve per distruggere tessuti danneggiati serve per eliminare sostanze tossiche e è il primo step per dar luogo alla rigenerazione e alla guarigione quando ci tagliamo ci facciamo una ferita c'è l'infiammazione proprio perché il nostro tessuto deve guarire questo momento infiammatorio però ha dei tempi ben definiti quando dura troppo l'infiammazione diventa cronica non è seguita da una adeguata risposta antinfiammatoria e quindi si hanno gli squilibri infiammatori che si traducono in varie patologie croniche quindi il corretto rapporto tra le citochine chi sa cosa sono le citochine le molecole non te che lo spiego che scatenano l'infiammazione dovrebbero essere appunto come una bilancia quindi c'è un danno prima si attivano le molecole che mediano l'infiammazione in maniera equilibrata poi arrivano le molecole che devono spegnere l'infiammazione e dar luogo poi ai processi di guarigione purtroppo non sempre c'è un equilibrio tra questi due momenti alcune volte la situazione è sbilanciata quindi il momento infiammatorio dura molto di più e non sempre seguito da un momento antinfiammatorio e questo è tipico di tante patologie autoimmuni la psoriasi la dermatità tropica intrinseca e tante altre patologie in cui c'è una prevalenza all'infiammazione bravissima dopo questa reazione infiammatoria ci possono essere quindi il primo step è quello di agire su questi fattori che scatenano l'infiammazione poi l'infiammazione è mantenuta quindi ci sono altre situazioni in cui l'infiammazione persiste uno squilibrio tra gli omega 6 e gli omega 3 questo è il motivo per cui insistiamo molto con un'integrazione di questo tipo alterazioni metaboliche che poi vedremo nel dettaglio disturbi di tipo endocrino carenze di vitamina D difficoltà del metabolismo dell'istamina e intolleranza all'istamina eccessiva produzione di radicali liberi e eventuali mutazioni genetiche che si chiamano adesso lo sapete ve l'ho detto prima concludiamo la prima fase quindi riassunto di tutto quello che abbiamo capito finora per gestire una reazione infiammatoria autoimmune da un lato bisogna ridurre tutto quello che stimola il nostro sistema immunitario dall'altro bisogna andare a equilibrare quella che è la risposta infiammatoria quindi questi sono i due momenti importanti togliere tutto quello che ci infastidisce e imparare a rispondere a quegli eventuali stimoli che comunque continuano a infastidirci adesso questa è l'introduzione adesso analizzeremo prima di tutto tutte quelle che sono le sostanze che hanno un effetto immunogeno e poi tutto quello che stimola l'infiammazione qui andiamo via veloce appunto uno tra i maggiori incriminati riguardo gli alimenti immunogeni e glutine ok e in particolare la celiachia visto che nei casi di psoriasi c'è una maggior frequenza di celiachia ma esiste anche la sensibilizzazione al glutine e l'allergia al grano e qua non occorre che aggiungiamo un altro aggiungiamo due cose veloci e veloci che sono importanti la prima è che la prossima volta è cantata da un dermatologo che vi dice che in pratica non c'è collegamento tra alimentazione e psoriasi vi ricordo che c'è uno studio fatto tra l'altro in Italia fondamentale che è uscito su dermatologia e veneralogia che è proprio la rivista ufficiale del dermatologo dove si evidenzia fortissimo il link tra le due cose c'è anche il pdf completo dello studio tra i file del gruppo casomai stampatevelo sbattetevi davanti di riguardo che questa l'hanno fatto i tuoi colleghi per cui prenditi la briga di leggerla cioè non per mancare di rispetto però è giusto che anche le informazioni ufficiali visto che sono ufficiali passino e la seconda cosa è ma quanto posso sgarrare col glutine perché ho le domande primarie ma ogni quanto si può sgarrare il glutine per essere eliminato richiede sei mesi ok quindi immaginatevi che uno sgarro può inficiare sei mesi di lavoro ok per cui pensateci tre volte cioè se sul resto magari possiamo dire anche vabbè capita sul glutine è meglio essere estremamente rigidi ecco prego ma quando diciamo allora io ho un po' di settimane che non sto a sto meglio dimenticare da glutine però magari nell'acquisto che faccio che non so devo accertarmi che su quella cosa ci si è scritto non contiene glutine bella domanda allora ci sono due grandi categorie di prodotti ci sono i prodotti che sono certificati senza glutine in cui si può andare a tutti i medi tranquilli e degli altri che c'è scritto magari è stato prodotto in stabilimento che contiene ok allora di norma se un alimento non dovrebbe avere glutine in natura è difficile che lo trovi cioè l'alimentazione che noi consigliamo è molto poco industriale è molto più diciamo per capirci naturale fatta di carne poco di carne fresca pesce fresco frutta e verdura che normalmente i glutine non lo contengono e sugli insaccati chiediamo di solito di prendere spec piuttosto che prosciutto crudo che di norma come ingredienti hanno solo carne di suino e sale ok però per esempio per me sono un soggetto etomorfo spero almeno che tende quindi a perdere peso ma direi un mesomorfo va bene sono normale però se voglio concedermi il riso vai tranquilla ma devo esserci scritto il riso non scrive senza glutine è riso perché non ne ha comunque no il discorso è qual è il motivo per cui tante volte siamo cattivi e diciamo no mais no orzo no perché anche se non contengono glutine a livello ufficiale cioè questo tipo di proteine gliadina o glutenina sono prolammine cioè una categoria particolare di proteine ed è ovvio che ogni cereale esprime la sua proteina similglutinata e per il sistema immunitario delle volte o per quel discorso di metismo molecolare anche se la proteina è simile e non è uguale al 100% comunque può dar fastidio l'unica che si è vista a non avere questo tipo di cross reattività cioè quindi reattività crociata è la riseina cioè la proteina del riso che è pulita per cui noi consigliamo solamente il riso come amido non per cattiveria ma perché è l'unico che definiamo pulito cioè che non non dà un'attivazione immunitaria allora sul riso ne parlavamo un pochino meglio dopo però anticipiamo il discorso il riso bene o male noi consigliamo i risi orientali tipo il Thai tipo i basmati perché hanno un carico glicemico leggermente minore poi ne volevamo parlarne proprio sul discorso dello stimolo insulinico però preferisco che sia una cosa più interattiva rispetto a noi che parliamo e voi che ascoltate quindi effettivamente il problema si pone cioè nel senso che magari nel video c'è scritto se riuscite a integrare il cocco e le varie variate ben venga però a volte non sono accorta leggendo facendo la spesa cioè ormai ho il terroro riprende questi psicoteri oh mio dio tremante in mezzo di provare le convulsioni in mezzo al non c'è glutine non c'è glutine vai tranquilla e trovi quello che c'è scritto non contiene glutine quello no quello è marketing ah ok di solito una cosa che non una cosa costa due euro senza glutine è marketing la scritta si fa pagare cara di solito no adesso scherzi a parte cioè alimenti che non se tu compri una merendina per capirci no cioè lì è meglio che sia senza glutine ma perché c'è possibilità che la salsa di soia attenzione cioè noi la soia la escludiamo andate a mangiare sushi ok esempio stupido e ovviamente dice vabbè la salsa di soia nella soia di solito a meno che non chiediate quella specifica senza glutine qualsiasi salsa di soia ha frumento dentro ok poi del chiederci perché stia esplodendo questa cioè non siamo noi che portiamo sfortuna o voi che siete soggetti voi siete soggetti particolarmente noi siamo soggetti particolarmente delicati da questo punto di vista però comunque a livello mondiale c'è un'esplosione di sensibilità al glutine e di celiachie cioè la celiachia aumenta al 10% l'anno ora chiederci se improvvisamente siamo tutti celiaci sicuramente le tecniche diagnostiche saranno migliori c'è più sensibilità anche sull'argomento per cui si tende ad avere più un occhio clinico sulle connessioni anche non immediate del glutine però c'è da dire che negli ultimi 5-10 anni i grani che si utilizzano a livello di produzione industriale fanno veramente pena cioè nel senso che sono grani pensati per le norme resa per ettero ci sono pannocchi che non si muovono neanche più così ci sono nano con un tronco tipo bambù il glutine arriva anche al 12% all'interno contro il 3-4% dei grani più antichi e sicuramente ci possono essere state delle modifiche anche qualitative della proteina che magari è più aggressiva per cui si lavora sul campo delle ipotesi che però il fatto che la celiachia se tu prendi ogni anno aumenta il 10% non ci scappi e in mezzo a un celiaco ce ne sono altre 9 che sono sensibili al glutine quindi possono dimostrare delle forme di tolleranza più o meno elevate e quelle sono ancora peggio perché la celiachia ha una certa la inquadri hai tanti di quei problemi che dici vabbè smetto però per tanti la sensibilità da quelle forme subdole che tu non scopri o che comunque non riesci a collegare a glutine tipo hai afte in bocca sempre sei sempre in farmacia a prendere prodotti per le afte in realtà se sensibilità a glutine togli glutine si perdiscono le afte capito per cui c'è il come se fosse riso allora kamut uguale glutine ecco il kamut è un'altra bella idea di marketing adesso arrivo subito cioè fondamentalmente anche se è una forma leggermente diversa con un glutine tra virgolette meno aggressivo kamut è un nome commerciale per indicare una varietà di grano né più né meno e il farro purtroppo fa parte di quei cereali che hanno una proteina che anche se non è glutine dichiarata è comunque molto simile e con effetti assolutamente replicabili l'unico cereale consentito e pulito è il riso che per fortuna esiste ormai in ogni variante possibile e immaginabile per cui da solo può bastare ma se io prendo gallette di riso o pasta di riso come faccio a sapere di che tipo di riso se è basmato non ti preoccupare se tu fai la scelta il discorso è questo se tu fai la scelta pratica della galletta di riso perché magari ti fa comodo per colazione potrebbe essere qualsiasi riso che c'era però la lavorazione industriale quella che la trasforma in polistirolo praticamente bene o male annulla quello che era il chico di partenza ok cioè gli dà una consistenza di un certo tipo gli toglie il gusto del riso e lascia questo gusto di plastica con retro gusto di arsenico cioè non è che sia proprio il massimo però ne capisco la comodità capito cioè non è che sono allora sarebbe un si possono con moderazione cioè nel senso che di norma chi cambia il regime alimentare la prima cosa che fa è sostituire la pasta con la pasta senza la pasta di riso e le fette biscottate con le gallette di riso cioè lo scopo non sarebbe proprio questo cioè lo scopo sarebbe quello di togliere alimenti industriali per inserire alimenti meno lavorati possibili e le gallette purtroppo non fanno parte di questo tipo di ci metti di meno a fartelo tu cioè nel senso che se proprio proprio Monica Doce tra un po' adesso metteremo il video di lei che ci insegna abbiamo fatto il convegno all'ido apposta per avere il video tuo che insegni come si fa la pasta di riso quindi adesso nei prossimi giorni metteremo un video di diverse ore che spiegherà come si lavora la pasta di riso con tanto di lievitazione nei tempi naturali cioè dovreste guardare 24 ore la pasta che lievita capito prego a proposito del discorso del glutine o glutine sensitivi se basterete secondo me questa mia esperienza fare una diagnosi differenziale nel senso ho una prova all'inverso io che sono ripulito dal glutine per tanto tempo ho fatto uno sgaro dopo il taccani taccani nel senso tumore cambio del sonno difficoltà bestiale alla digestione quindi il fatto di averlo tolto mi ha procurato solo benefici il fatto di averlo introdotto anche una sola volta mi ha procurato talmente tanti danni che non ha senso ritrodurlo a questo punto perché la qualità della vita è cambiata tantissimo con una magari solo con una mossa bisogna bisogna farla prova per quello che ti adoro Stefano quanti di voi avete avuto questa esperienza penso tre quarti tu mai più maggior parte fa così di solito di solito succede così allora giusto perché lo dico soprattutto per te che sei appena entrato nel club degli svitati qua per cui ancora le dinamiche non le hai chiare ma la prassi è questa allora la gente comincia molto motivata le prime due tre quattro settimane poi appena cominci a vedere dei benefici cosa fai visto che adesso sto meglio track va fuori in pizzeria e normalmente tende a essere un massacro perché per l'organismo è un vero veleno glutine e quella volta che tu lo reintroduci dopo essere stato senza per cioè il organismo non lo tollera veramente più cioè ti fai la notte se non sono in tre contazioni successivi in bagno sia davanti che di dietro credimi non è il massimo della vita lo dico per esperienza perché è una cosa che cioè non è solo di Stefano questo mood per cui vi dico state se dovete sgarrare quel formaggio non l'ho mai detto ok cioè tra tutti gli sgarri possibili il glutine è il peggiore ma può essere che ci sia qualche altro fattore o che il glutine è così importante perché può essere che uno non assumendo glutine il glutine non ha già glutine miglioramento brava siamo qua una sera proprio per parlare di tutti anche gli altri fattori cioè c'è da dire che il glutine conta nel 70% dei casi cioè ovviamente ci sono persone che il glutine lo tolgono benissimo che possono mangiarlo liberamente e non gli da nessun tipo di problema e anche tra malati autoimmuni non c'è un problema di intolleranza glutine cioè non sto a dire di no serbo ipocrita anzi anzi personalmente con quelli è più difficile perché poi tolto quel fattore bisogna andare a scavarli fino per trovare quali sono i fattori corretti però esiste persone che possono mangiarlo liberamente solo che magari se nella popolazione sana 7 su 10 possono mangiarlo senza problemi nei malati autoimmuni sono 3 su 10 capito c'è proprio una sensibilità diversa dei malati autoimmuni al glutine ecco continuando la carrellata di alimenti immunogene al secondo posto classificata c'è la caseina ci può infastidire in vari modi dal momento che stimola la liberazione di stamina dal momento che mantiene per lungo tempo l'infiammazione e inoltre può aumentare la risposta dell'organismo all'insulina aumentando l'insulino resistenza io per fare questa diapositiva mi sono riferita a Paolo ho fatto un riferimento a Paolo che in ambulatorio fa sempre l'esempio per far capire quanto danosella è la caseina dal momento che ricorda che spesso viene usata per fare delle colle e quindi a volte avere qualcosa quanti sapevano questo? nessuno che si può trasformare in una colla nell'intestino è un esempio molto pratico per capire come può danneggiarci sapete come si fa la colla industriale a base di caseina? semplicemente si porta la caseina a 60 gradi e diventa già colla non vorrei ricordarvi però tutto il latte commercializzato sia che sia da bere che sia trasformato in formaggio è comunque minimo pastorizzato quindi sopra i 60 gradi c'è andato continuando con l'elenco degli alimenti monogeni abbiamo appunto le lectine presenti nei legumi abbiamo le saponine sempre presenti in altri legumi questo è il motivo per cui comunque sconsigliamo l'utilizzo di pseudo cereali come la quinoa l'amaranto visto che è una domanda molto comune quando si comincia la dieta c'è chi ci chiede se comunque può assumere questi alimenti visto che non hanno glutine e il consiglio è comunque quello di non utilizzarli proprio per questi motivi e poi ci sono le solanacee che contengono appunto la solanina che è una sostanza molto infiammatoria posso chiedere avanti so già che la risposta è no ma il grano saraceno non è un cereale si dice già grano saraceno e infatti l'ho già letto ma perché se non è un cereale proprio per questo motivo qua perché è molto ricco sia di lectine che di saponine cioè il motivo è proprio questo cioè i pseudo cereali per quanto non siano glutinati e vengono fatti passare da mode vegan friendly come grandi alimenti in realtà al di là del ragionamento dell'apporto benefico di vitamine e minerali in un contesto in cui l'obiettivo è riparare l'intestino quindi togliere qualsiasi cosa può danneggiarlo lectine e saponine sono importanti fattori di danno anche perché sono tossine emolitiche sono proprio rompono i globuli rossi e fanno danni alle cellule per quello che si consiglia di toglierli prego infatti poi le cose si evolvono male sulle patate sulle patate c'è un ragionamento sulle patate c'è questo tipo di ragionamento qua allora noi normalmente quando vogliamo essere ortodossi e iper rigidi consigliamo le batate o forme di patate cioè forme particolari e strane e introvabili di tuberi perché non sulla nace perché appartenenti ad altre categorie di piante e quindi prive di saponina nella realtà dei fatti se volessimo essere un po' più buoni cioè che succede dal 23 dicembre al 25 sera e le patate rispetto a melanzane rispetto a peperoni rispetto allo stesso pomodoro sono tollerate molto meglio cioè nella maggior parte dei casi sono meno rognosotte rispetto agli altri sono nace eh però sai ci sono persone che tolgono bene le patate e male il resto per cui tante volte la patata adesso non fate le battutine ho già visto le facce dai le ho già viste le ho già viste tu sei una delle prime che ho visto cioè delle volte il pro il fatto di avere soprattutto per chi è ectomorfo che perde peso il fatto di avere un amido economico buono che puoi elaborare in 500.000 modi e che trovi dappertutto dato il fatto che magari la sensibilità alla solanina della patata è più bassa rispetto cioè è meno di tanto rispetto ad altri delle volte cioè non è da scudere tu cu capito cioè si potrebbe anche pensare di provarci anche perché nella patata la solanina si concentra sulla buccia cioè comunque sulla porzione molto vicina alla buccia quindi magari scavando un po' di più quando la sbucci riesce a togliere veramente il 90% del della solanina capito allora il discorso è il problema dell'ectomorfo eh vedi cioè parliamo sempre di grandi individualità però l'ectomorfo ha bisogno di avere una quantità di carboidrati più alta ed è molto importante la sua salute e dipende moltissimo da come gestisce i carboidrati cioè sia ad andare in ipoglicemia per carenza di carboidrati sia ad andare in ipoglicemia per picchi di iper e poi iper ma poi lo prendiamo meglio il discorso e rende molto importante veramente quantificare la quantità di carboidrati e di calorie che vengono consumate ogni giorno il problema è che se tu dovessi mangiare il riso come unica fonte di carboidrati amidacei tempo una settimana non ne puoi più perché c'è il giro che ti rigira quella è quando cominci ad avere riso patate patate cioè più fonti hai più hai varietà meno ti stufi capito quello è il ragionamento poi con fecola di patate e riso e farina di riso ti si aprono un milione di possibilità la fecola di patate abbiamo notato anche qui prendete da sempre con le sensibilità individuali che in realtà non contiene solo anina perché in pratica è solo l'amido della patata cioè per cui la fecola di patate senza glutine qua guardate che sia proprio certificato sulla confezione si si può usare anche perché poi parleremo di amido resistente ma la fecola di patata fredda messa in un bicchiere d'acqua e orrendamente mandata giù e lo so però è una delle forme di amido resistente più comodo più economico e paradossalmente più efficace fa più schifo della pc no 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 la pc è cagarissimo proprio cagarissimo dopo che bevi l'opc puoi bere qualsiasi cosa scusa una curiosità che sono che le veroni melanzane sono parte anche delle piatte del tabagismo no è il tabagismo che fa parte delle solanacee ma anche le patate no sì anche il pepe la solanina come tutte le sostanze piacevoli è molto resistente sia al calore che al lavaggio quello che ci se no era troppo comodo capito non ci preoccupiamo neanche ok allora abbiamo visto prima il primo gruppo di sostanze che stimola il nostro sistema immunitario sono gli alimenti ok secondo gruppo sono gli agenti infettivi qui ci dilungheremo un po' perché stiamo avendo parecchie esperienze in ambulatorio riguardo il ruolo che hanno le infezioni nel mantenere nello scatenare parecchie case di psoriasi partiamo da cose già note in particolare la candida quanti sanno cos'è la candida dai sulle mani tutti tutti ci teniamo proprio te ecco appunto sappiamo che come diceva Paolo prima ha parlato di mimetismo molecolare anche la candida è in grado di dare fenomeni di mimetismo molecolare quindi di scatenare reazioni autoimmuni inoltre altera la permeabilità intestinale e partecipa ad alterazioni di disbiosi intestinali adesso posso farli vedere una figata dai 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 allora prima a voi vi ho chiesto che cos'era la lichigata adesso è il momento giusto per parlarne ok perché insieme il mimetismo molecolare è un'altra di quelle cose che dobbiamo avere molto molto presente solo che ho una slide bellissima che non posso non farli vedere dategli soddisfazione mi raccomando se non dorme già non dormo stesso ecco speriamo che si veda bella ecco la guarda 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 che figata c'è roba che un istologo qua un orgasmo in diretta adesso bisogna spiegarlo perché visto così non si capisce tanto però il bello di questo faccio come Tim Cook che mi allargo allora questa è un'immagine presa col microscopio elettronico che fa fare degli ingrandimenti molto belli peccato che però si fa vedere solo in bianco e nero per cui ci vuole una certa capacità di interpretare allora questa famosa sindrome dell'intestino permeabile si capisce solo se si capisce che cos'è un intestino impermeabile qualcosa che non fa passare le cose allora come vedete questo che vedete sono due cellule enterociti cioè cellule della parete intestinale per capirci quelli in cui ci sono i villi che poi fanno l'assorbimento non confondete quelle strutture lì sopra con i villi perché quelli sono proprio microvilli cioè proprio la parte cellulare cioè proprio due cellule i villi sono qualcosa di macroscopico queste sono proprio sarebbe l'orletto a spazzola cioè la parte villare con i microvilli che c'è sopra la cellula se vedete tra due cellule vicine vedete che c'è uno spazio tra le due cellule perché un epitelio è fatto da due cellule che sono vicine però queste cellule sono ultra sigillate cioè sono fatte con ci sono delle sostanze che in pratica impediscono il passaggio l'infiltrazione di qualsiasi cosa all'interno dello spazio che c'è tra le due cellule vi è chiaro si vede abbastanza bene c'è una cosa che si chiama complesso di giunzione si chiama proprio così ed è composto sempre da tre parti da una prima parte in alto che è la giunzione occludente so che sono parolacce però si capisce bene è come se fosse il silicone nelle fughe ok c'è proprio sono delle proteine messe lì apposta perché impediscono il passaggio di qualsiasi sostanza ok chiudono è come se ci fosse un muro andando un pochino più giù c'è un'altra cosa che si chiama giunzione aderente che serve perché se io sigillo però le due cellule non sono tenute forte una con l'altra tra di loro si muovono ed è inutile che io sigillo sopra se le cellule sono libere di muoversi quindi ci sono delle altre proteine che tengono schiacciate le cellule tra di loro e questo si chiama giunzione aderente più a sotto proprio per andare ancora maggior ragione a incentivare la cosa ci sono delle macule aderenti cioè delle altre proteine ancora più forti però più concentrate in zone specifiche che mantengono adese le cose capito perché così importante figurate l'organismo quanta energia spende e che meccanismi ha trovato per tenere le cellule vicine ovviamente scopo di qualsiasi agente infettivo che vuole cercare di passare attraverso queste giunzioni è cercare di romperle ok è un po' una guerra io tengo chiuso però la candida o i batteri che vogliono passare attraverso l'ume intestinale cercano di romperlo per cui loro producono sostanze che vanno proprio a sciogliere queste proteine in maniera tale che si riescono ad aprire la strada e la flatosina della candida fa esattamente quel lavoro lì va a sciogliere le giunzioni che ci sono lì sopra le giunzioni occludenti e sotto c'è il ciclo sanguigno per cui una volta che passano gli interstizi arrivano indirettamente nel sangue e quindi poi hanno libero accesso al resto dell'organismo più chiaro adesso questa parola giunzione occludente e intestino permeabile barra impermeabile l'altra cosa che succede succede proprio qua sopra se c'è una forte reazione immunitaria come quella che può essere il fatto di utilizzare alimenti immunogeni che scatenano sempre risposte immunitarie è che un continuo processo infiammatorio distrugge proprio l'epitelio cioè l'epitelio non viene rigenerato tanto velocemente quanto viene distrutto e di conseguenza apre grandi zone libere di passaggio chiaro? è più bello spiegato così no? cosa dite? ripasso qua anche perché la cosa importante è che il ruolo del nostro intestino è quello di avere una permeabilità selettiva quindi non va bene né che non sia permeabile né che non sia impermeabile cioè deve continuamente lasciar passare determinate sostanze i nutrienti e deve lasciar fuori tutte le sostanze tossiche gli agenti infettivi quindi è una è una continua selezione quindi deve lasciar passare alcune sostanze e bloccarne altre quindi è veramente difficile non è che c'è l'interruttore on off deve essere continuamente controllata questa cosa quasi ecco insomma questo era il discorso quindi abbiamo visto la candida e noi cerchiamo di avere sempre un approccio improntato su tutti accorgimenti dietetici in modo tale proprio da creare un ambiente stile a questo lievito e fare il possibile perché si che proliferi il meno possibile ovvio che in alcune circostanze la situazione è molto impegnativa quindi ricorriamo anche a un iniziale approccio farmacologico proprio per ridurre la carica di questo lievito e poi fare un mantenimento con la dieta con il mantenimento di un certo pH o comunque di sostanze antisettiche naturali esatto dopo vediamo le diapositive sempre domande sulla candida avete domande eccola qua no ce l'ho dopo nessuno che ha domande sulla candida di solito una delle cose più più dubbiose allora il problema della candida è che è un altro parassita cioè è un altro invasore subdolo nel senso che normalmente la candida è un normale abitante dell'organismo nel senso che in una certa misura e nella sua forma bonaria è comunque sempre presente il problema della candida è che appena il sistema immunitario molla un attimo lei trova uno stato per potersi replicare per poter anche diventare più aggressiva e quindi prende l'occasione per andarsene in giro qual è il problema nel malato di psoriasi è che spesso e volentieri chi soffre di una malattia cronica autoimmune e quindi a largo a tutti gli altri fa trattamenti di immunosoppressione continui per cui cortisone cronico piuttosto che ciclosporina piuttosto che addirittura biologici quello che è fatto sta che ovviamente avendo un sistema immunitario immunosoppresso per molto tempo ovviamente lo spazio per proliferare la candida lo trova e quindi la tua domanda è come la trovo? ci sono diversi test possibili allora il test casalingo che noi abbiamo messo sul libro per esempio è la sputazzata sul bicchier d'acqua che sembrano abbiamo messo le foto perché abbiamo appena cenato esatto ci sono gli altri esatto cioè diciamo che fa parte di quei test funzionali che magari non è che dicano al 100% ok però ti dà un'indicazione capito nel senso che tanto costo zero schifo a parte non però ti dà un'idea capito cioè se vedi molto sfilamentare magari il sospetto divina se dopo lo metti insieme ha dei sintomi tipici come possono essere meteorismo gonfiore giorni di stichezza che passano con giorni di diarrea cioè via così il problema poi è trovarlo in maniera ufficiale ok cioè il problema nasce lì se invece è il contrario se io nel test che mi ho fatto sei pulito però ho tutto il resto degli effetti sospetta di controllare lo stesso come tre strade strade possibili sono tre strada numero uno è quella che si usa a livello medico generale che è quello di fare analisi delle feci si fa la coprocultura e se c'è è bene se no non c'è il problema è questo la candida sopravvive malissimo tanto rompe le balle all'interno dell'organismo tanto fuori sopravvive poco per cui c'è una buona possibilità che muoia in fase di campionamento e quindi non si trovi poi bisogna andare a riuscire a trovare il pezzo di feci che ce l'ha per cui magari tu analizzi un pezzo dove non la trovi è per quello che si farebbe su tre campioni anziché su uno però normalmente per risparmiare si fa su uno solo e quindi le probabilità di trovarle diminuiscono due sistemi più intelligenti che però in Italia si usano poco sono il campo scuro cioè prendi il sangue lo metti in un microscopio particolare con una luce particolare e si vedono abbastanza bene ci sono che se la girano per il sangue e la terza c'è un'analisi specifica delle urine che si chiede ricerca di metaboliti della candida attraverso le urine e si può trovare e penso che in diversi laboratori privati già si possa fare cioè si va cercare proprio su metabolita specifico e si trova questa secondo me è la maniera più furba secondo me solo che tipo c'è la tropicalis che ha lo stesso metabolita però perlomeno ti rendi conto del problema 90 su 100 comunque albicans quando è candida ecco dopo la candida sempre responsabili di reazioni autoimmune ci sono i parassiti e anche qui persiste la stessa difficoltà nel fare una diagnosi perché non sempre anzi così mai con l'esame delle feci si riesce ad avere una diagnosi certa di infestazione di questo tipo continuo non so se c'è qualcosa da aggiungere sui parassiti è un argomento delicato c'è una bella puntata delle iene anche qualche giorno fa che ne parlava volete che ci approfondiamo sull'argomento parassiti il discorso dei parassiti è che è un'altra cosa come la candida sono sudoli cioè nel senso che bene o male per esempio per i cani è normale tu sai che un cane da quando nasce fino a che non ce l'hai in casa ogni mese ogni due tre mesi lo svermini cioè il fatto di sverminarlo è una cosa è una prassi normale e paradossalmente nella maggior parte delle culture tribali il discorso dello sverminamento tra virgolette cioè di pratiche atte a eliminare i parassiti fanno parte della quotidianità nella cultura occidentale il parassita non è quasi neanche preso in considerazione cioè si dà per scontato che il prodotto che noi andiamo a comprare al supermercato sia ovviamente pulito e quasi non esistano fonti di contaminazione da parassita però ci sono ok tantissimi parassiti per esempio sono sul terreno per cui il bambino che gioca che infila le dita nel terreno poi se le porta in bocca può portarsi dentro uova di ossiuri o di elminti cioè di particolari forme di parassiti che depongono le uova sul terreno o tipo il tuo amico contadino ti ha dato il salame che fa lui che è buono e sano e genuino e magari quello contiene uova di tenie cioè nel senso che alla fine i parassiti dovete cominciare abituarvi di entrare nell'ottica che sono molto molto più diffusi di quanto effettivamente si creda e possono dare un'enormità di sintomi che raramente anche il medico sa collegare al parassita cioè esempio stupido le ossiurasi che sono le infestazioni da ossiuri hanno come caratteristica il fatto che l'ossiuro di notte depone le uova nell'ano cioè quindi lui di notte va giù nell'ano mette le ovette e la mattina il bimbo o l'adulto con l'escrizione di feci porta le uova fuori nell'ambiente tipico è il prurito notturno anale ok cioè il bambino quando vedi che di notte si gratta il culetto a più non posso è molto probabile che ci sia un ossiurasi capito per cui se il medico fa il collegamento poi si tratta c'è il vermox comunque ci sono dei prodotti specifici e in poco tempo si fa fuori però se non si ha la consapevolezza di cercare anche i parassiti e le parassitosi come possibili cause spesso e volentieri si escludono e si escludono anche a livello del gruppo dove per esempio il problema parassita è un problema sentito esempio stupido se avete una malattia autoimmune che peggiora con la luna piena cioè sembra una roba di lupo mannaro in realtà siccome che il ciclo del parassita è molto collegato alle lune cioè quando la luna piena il parassita tende a fare la schiusa tende a fare il cambiamento del ciclo vitale e quindi la sintomatologia peggiora proprio con il ciclo lunare quindi se vedete che vostra psoriasi peggiora con i giorni delle lune potreste pensare che il problema sia un parassita non diagnosticato ok poi il problema è un parassita che non è un batterio che con un antibiotico si fa fuori è puricellulare ma ci sono parassiti che possono essere lunghi dei metri cioè per capirci per cui farli fuori non è prende una pastiglia e delle volte occorre metterci dei mesi cioè conoscere il ciclo vitale dire benissimo oggi faccio fuori i parassiti poi so che tra un mese si saranno schiusi le nuove uova e quindi devo fare un secondo ciclo di sverminazione per far fuori i parassiti che sono germinati cioè occorrerebbero persone esperte in questo tipo di protocolli e purtroppo non ce ne sono tante per non dire quasi nessuno cioè forse più veterinario rispetto al medico normale altra cosa ci sono sostanze naturali per i parassiti c'è l'olio di mallo la noce di mallo il garofano io ho visto persone che hanno speso fortune in integratori sostanze naturali per far fuori i parassiti in realtà mettendoci degli anni e con risultati dubbi c'è il protocollo della Clark per i parassiti onestamente il vermox funziona benissimo cioè nel senso che non so perché andare tanto a complicarsi la vita ci sono degli antiparassitari molto buoni con pochi effetti collaterali e che in quattro pastiglie fanno fuori tutto ecco onestamente in questo caso la farmacologia moderna ci vende aiuto ecco l'idrocolon per la via allora l'idrocolon è un'altra cosa che è andata molto in voga nel passato per fortuna sta sempre più passando e meno male ok nel senso che qualcosa che non è fisiologico come buttare l'itri d'acqua su per il buco del sederino effettivamente quello che al tuo cervello fa strano c'è un motivo ok fa strano adesso detto in altre parole il problema è che il colon è un ecosistema soprattutto microbico e ne parleremo poi estremamente delicato cioè ci sono moltissimi ceppi batterici che risiedono nel colon che sono fondamentali per la salute il fatto di lavarli via così tante volte quello che potrebbe sembrare essere una buona mossa poi ti si rivela una mossa molto complicata ok cioè a meno che tu non trovi delle disbiosi veramente molto molto pesanti che tu dici benissimo lo faccio per lavare via tutto ma dovrebbe essere un primo passo atto nella ricolonizzazione poi corretta del colon e la maggior parte di chi fa i protocolli di idrocolon non sa neanche cosa sia il microbioma per cui dirgli ok lavi via e adesso capito qual è il problema e tra l'altro il colon avrebbe sui bei movimenti di peristalsi dove con una buona alimentazione ricca di fibre solubili soprattutto consentono un'ottima pulizia del microbioma e del tratto intestinale ha il senso per spianzare tutto ecco sì ne parleremo poi sul microbioma allora il discorso è questo l'helicobacter è uno di quei batteri tra virgolette opportunisti ok nel senso che è uno degli altri batteri che in una certa misura hanno un certo numero quasi tutti gli organi quasi tutti gli esseri umani ce l'hanno però soprattutto in questi ultimi anni c'è stata moltissima attenzione sull'helicobacter che poi può essere causa al di là di malattie molto gravi come possono essere cancre allo stomaco e quant'altro anche tante gastriti in realtà sono infezioni gastriche ed helicobacter che poi ulcerizzano e non vengono diagnosticati helicobacter è una rotura di palle ok se ci sono sintomi che possono dar tipo gastriti e via così che possono far pensare helicobacter meglio cercarlo e se c'è farlo fuori allora l'altro dice lui che lo sa però il protocollo è quello cioè le linee guida sono quelle prevedono solitamente due antibiotici e un inibitore di pompa diagnosi dell'helicobacter ci sono due tipi di diagnosi col prelievo bioptico che è quella più antica adesso ci sono anche le sputtazzate sul vetrino dove si va a cercare il metabolita dell'helicobacter quindi è meno invasivo può anche il breath test adesso c'è anche il breath test oppure anche la ricerca degli altri corpi può recidivare si può recidivare mia mamma aveva una gastrita che per 25 anni ha preso malox a quantità proprio tipo camion dei pompieri e bastava un po' più di olio nella pasta in bianco e partiva con delle gastriti da paura e a casa erano botte da orbi perché però poi scoperto l'helicobacter fatto l'antibiotico 20 giorni di rottura di balle però da ormai 15 anni si così a sciroppi proprio giù alluminio come se piovesse a più non posso a lavati chiave e va bene così ci piace ma aspetta tu mi anticipi tutte le l'argomento alla volta so che vi tengo qua fino ai 3 di notte ma finiamo tranquilli ecco poi continuando appunto con l'elenco degli agenti infettivi ovviamente anche lo streptococco è associato a parecchie reazioni autoimmuni è associato in particolare alla psoriasi guttata quindi di fronte a una diagnosi di psoriasi guttata è sempre in caso di indagare eventuali infezioni da streptococco purtroppo anche con lo streptococco abbiamo sempre la difficoltà di fare una diagnosi come per la candida come per i parassiti perché? perché il tampone faringio spesso dà falsi negativi perché lo streptococco non necessariamente prolifera solo a livello della mucosa orale ma spesso può essere associato anche a infezioni a livello dei denti oppure in posti dove non viene raggiunto col tampone esistono altre modalità di fare diagnosi una è la titolazione del TAS cioè la formazione di anticorpi antistreptolesina però anche questo è un esame che ha dei limiti perché la streptolesina è un enzima che produce lo streptococco ma non tutte tutti i ceppi di streptococco la producono quindi alcuni non la producono quindi agiscono indisturbati in caso di ricerca di questo tipo e anche lo streptozime è un esame per valutare la presenza di anticorpi diretti contro lo streptococco cerchiamo noi di consigliarvi tutti e tre nella speranza di avere qualche indicazione purtroppo sono tutti esami che possono dare sia falsi negativi che falsi positivi quindi vanno sempre inseriti in un contesto la clinica i sintomi e poi gli esami di laboratorio e poi furbizia nell'interpretare perché prego è tipo limus si esatto si 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 esatto anche soprattutto la correlazione con problemi di tipo reumatico nel caso dello streptococco piuttosto che altri agenti infettivi la domanda giusta cosa vuol dire curato bene il problema è lo streptococco se tu finisci sette mesi di antibiotico pesante qualche batterio qualche streptococco sopravvive sempre cioè il curato bene tu più vuol dire che il test si negativizza ma non è detto ok cioè qual è il problema sono batteri un po' opportunisti poi tra l'altro lo streptococco ha una capacità che è quello di fare biofilm anche questa è una parolaccia allucinante però il biofilm in pratica è una struttura chimica ok una specie di di colonia ok dove ci vanno dentro candida streptococco mille batteri cioè si proteggono dentro una struttura fatta di mucopoli saccari di proteine di protezione in cui in pratica l'antibiotico non entra magari loro si mettono lì chieti chieti non danno neanche tracce non esistono tu fai l'antibiotico tutto quello che è al di fuori del biofilm muore però non appena tu finisci con l'antibiotico loro belli riescono e te la mettono in quel posto cioè quanti magari fanno 12 mal di gola all'anno finisci un ciclo di antibiotico passa un mese l'altro mal di gola finisci cioè è proprio perché spesso e volentieri nei tonsille trovi tonnellate di biofilm di streptococco che non riesci a far fuori quindi o sai come si rompe il biofilm ci sono tipo NAC altre sostanze che rompono i biofilm e quindi tu fai l'antibiotico preceduto da un trattamento anti biofilm o quant'altro oppure non te ne cavi mai poi considera che può andare se tu fai una devitalizzazione fatta non perfetta sul colletto dentale ci può ci può essere delle zone in cui lo streptococco prolifera ed è fuori praticamente dal contatto sanguigno per cui tu fai l'antibiotico sistemico lui riesce a trovare l'anfratto in cui butta giù tossina e a te viene la guttata o ti viene problemi romatoidi però l'antibiotico non ci arriva cioè per cui non è bianco o nero capito cioè è una situazione che può essere veramente rognosa sia dal punto di vista diagnostico che soprattutto poi dal punto di vista dell'intervento tecnico ecco insomma questo per esempio è un esempio di psoriasi guttata che poi si è risolta una volta che è stato trovato il colpevole in ultimo stiamo vedendo parecchi casi in cui i responsabili di una persistenza o di recidive di psoriasi sono le infezioni virali in particolari le infezioni arpetiche sia da herpes simplex che da herpes doster la mononucleosi e infezioni da citomegalovirus allora questi sono virus con cui tutti veniamo in contatto solitamente in età prescolare o scolare quindi avere un'infezione di questo tipo fa parte del nostro sviluppo il problema è che questi virus hanno la capacità di restare latenti nel nostro organismo per anni quando poi si presenta una situazione di immunodepressione riescono a riattivarsi riprendono a replicarsi quindi aumenta la carica virale nel nostro circolo sanguigno e cominciano a impegnare il nostro sistema immunitario alterando i nostri equilibri allora non so se vedete bene i valori e quant'altro questo l'abbiamo aggiunta venerdì sabato era l'ultimo appuntamento di sabato è venuta una signora su da Firenze perché poi uno dei motivi non vi nascondo uno dei motivi per cui ho deciso di fare queste serate qua è perché in clinica cioè in ambulatorio stiamo trovando delle esperienze talmente importanti da raccontare che diventano difficili da spiegare tramite gruppo cioè questi incontri qui sono perfetti per aggiornarvi sulle scoperte che mano a mano facciamo allora c'è venuta una signora venerdì sera che aveva fatto praticamente sabato sera che aveva fatto ogni biologico in natura esistente possibile ciclosporina una vita cortisone una vita tutto quello che si poteva fare per immunosupprimere l'ha fatto e a un certo punto non è più funzionato compreso tutti gli ultimi biologici gli mancava l'ultimo secukinumab ma gli altri li ha fatti tutti ok quindi in pratica ormai cioè tu non immunosupprimi più perché non funziona più nulla per fortuna che ha fatto qualche medico furbo gli ha fatto fare queste analisi del sangue qua che sono le analisi ha avuto le reazioni autoimmuni quindi ha fatto le molto pesanti e ha fatto questo esame sierologico quale se non so se ci vedete bene i numeri però ve li spiego io in pratica sono andate la ricerca della presenza di anticorpi di tipo IgG di alcuni virus tipo il citomegalovirus quello che abbiamo detto prima l'Epstein-Barr e vabbè già due sono abbastanza l'herpes manca esatto se vedete i valori lì in alto dove il limite dovrebbe essere praticamente sotto 15 abbiamo un 488 dove il limite dovrebbe essere sotto 20 abbiamo un 750 cioè valori che sono centinaia di volte sopra quello che dovrebbe essere il minimo perché perché in pratica l'immunosoppressione portata avanti per tanti e tanti anni ha lasciato campo libero proprio quei virus che sono che danno quel metismo molecolare che sono alla base della malattia autoimmune ok quindi l'approccio spengo il sistema immunitario non solo potrebbe non essere furbo perché causare effettivamente mille effetti collaterali dovuti al farmaco ma in realtà dei fatti peggiora quella che è la situazione dei fattori scatenanti perché lascia libero a questi signori qua che sono quelli che poi incasinano il sistema immunitario di fare quello che vogliono e quindi quando arrivano al punto di essere talmente tanti e talmente importanti come le attivazioni che non li puoi più tenere sotto controllo capito quindi poi ne parliamo cioè quindi poi bisogna cominciare a pensare non più di spegnere il sistema immunitario ma di fare protocolli antivirali specifici per andare ad abbatterli solo che il problema è che con l'herpes fai presto perché c'è lo Zovirax cioè non fai presto ma grazie a Dio c'è un farmaco antivirale specifico e a un certo punto te la cavi ma con questi la battaglia può durare veramente tantissimo tempo prima di riuscire a venirne fuori poi vi spieghiamo anche come affrontarli però vi è chiaro il passaggio del problema dell'immunosopressione tenuta per lungo termine psoriasi psoriasi trattata con immunosopressori e biologici questi esami sono stati fatti ma era una psoriasi? no no niente di sconvolgente una psoriasi ma che non rispondeva più a niente non rispondeva alle terapie e stavano programmando l'ennesimo farmaco biologico tanto che io gli ho detto ma no Paolo non glielo faranno mai un biologico mi danno se tu ti dico come no li ho cerchiati io infatti io gli faccio Paolo non gli daranno mai un biologico guarda hanno cerchiato e lui mi fa sì sono stato io a cerchiare ti hanno fatto la sierologia virale non fanno di protocollo la sierologia virale io vi dico ho preso per tre anni metto le pesate perché ma adesso sei stato metto le pesate allora sul discorso no allora il discorso attrito psoriasica bisogna fare una parentesi non è proprio così no allora il discorso è questo non volevano darmelo eh vada da clinica a clinica cioè per esempio a Firenze guarda caso c'è stato un medico che è stato anche arrestato o capita insomma lì hai mal di spalle dimmi che hai mal di spalle sì biologico nel tuo caso hanno fatto la cosa corretta cioè hanno ponderato nel caso della psoriasi dermatologica cioè ferma che arriviamo ecco la psoriasi antropatica è un'altra cosa ferma che arriviamo ok lì è diverso perché sennò sembra che siamo contro i farmaci cioè tu non è quello il discorso il discorso è ogni farmaco ha degli effetti collaterali e dei benefici per cui si prescrive ok allora ci sono delle valutazioni che il medico deve fare bilanciando mettendo su un piatto i benefici e i rischi che fa correre il paziente allora per una forma dermatologica pura ok che è brutta è quello che è il fatto che tu esponi una persona a un enorme rischio perché il biologico è un enorme rischio ok dovrebbe valutarlo con molta attenzione nelle forme artritiche il concetto è o non cammino e sto sdraiato a letto o prendo il biologico allora capisci che il fatto di garantire una vita normale può fare un ragionamento vabbè il rischio vale la candela oppure il rischio non vale la candela no no nel tuo caso il reumatologo è stato corretto il discorso dell'artrite psoriatica è molto più delicato infatti cioè sull'artrite uno alza le mani cioè nel senso c'è l'unico che ti dica non prendere i farmaci se non prendere i farmaci vuol dire stare sdraiati esatto alzo le mani però ci sono forme dermatologiche leggere o medie in cui vengono dati con tantissima leggerezza poi vuoi malafede vuoi perché costi non è ma non ci interessa questo discorso ci interessa solo che porre l'attenzione su delle dinamiche del biologici che possono essere rognosi cioè nel senso che e tante volte anche chi li prescrive che non sono immunologi quindi conoscono molto bene o virologi che quindi conoscono molto bene questo tipo di dinamiche ma sono dermatologi che magari non sanno nemmeno che cos'è un CD8 o un CD8 più capito per cui questo tipo di analisi non è standard nella prescrizione per i biologici esatto questa è la cosa più importante il protocollo per la prescrizione dei biologici prevede delle indagini che non contemplano la serologia virale e la tipizzazione linfocitaria in questo caso è stato fatto solo perché in corso di biologici ha avuto una reazione autoimmune allora hanno indagato eventuali infezioni virali il nostro dubbio è che probabilmente noi seguiamo più di una persona con un biologico quindi non è che siamo contro i biologici però invitiamo sempre a fare veramente qualche esame in più per avere una fotografia di quella che è la predisposizione a reazioni e infezioni virali e anche una fotografia di quello che è il sistema immunitario in quel momento come sta reagendo perché talvolta il farmaco biologico soprattutto quando non si risponde perché magari nel tuo caso uno dice non cammino devo camminare ma questo caso qui era completamente diverso avevamo una persona che non rispondeva assolutamente il biologico e la proposta terapeutica era ok non risponde a questo biologico cambio biologico hanno questa tendenza sì hanno questa tendenza anche perché estremamente dopo due anni non funzionano più cioè nel senso che lo stesso farmaco per due anni va tre nella maggior parte delle persone poi non va più devi passare a un altro poi a un altro poi a un altro cioè nel senso che eh no metti che sei o sette per vent'anni ce ne sono dai riesci a tirare a campare però sai quando non risponde forse è il caso di dire di chiedersi perché non risponde questo è il caso in cui questa persona non rispondeva assolutamente al biologico allora lì lì ti rendi conto che il discorso che faceva Paolo prima il biologico fidati no tu tu però c'è tanta gente a cui viene proposto e che viene e che decide di farlo poi secondo me noi non siamo qua a decidere se è giusto farlo perché probabilmente ci sono delle situazioni in cui la psoriasi solo cutanea è talmente invalidante che io capisco anche chi fa il biologico perché probabilmente ci sono dei periodi della vita in cui uno ha necessità di curarsi ha necessità di star meglio e di affrontare questa terapia quindi noi non vogliamo dire terapia sì terapia no ok tu decidi che terapia fare il tuo dermatologo all'ospedale decide che terapia fare e noi facciamo il possibile per supportarti affinché questa terapia ti dia i migliori risultati che funzioni e che tu possa farla a meno tempo possibile però questo vale per tutte le terapie che sia il biologico che sia la fototerapia che sia il cortisone cioè noi veramente cerchiamo di sfruttare al massimo in un rapporto rischio-beneficio i benefici che anche la terapia farmacologica può darci quindi abbiamo parecchie persone che hanno biologici metotrexate cortisone lampade non è che a noi non piace schierarci sì o no abbiamo queste armi ne abbiamo dieci usiamole tutte non ho il biologico allora tiro i remi in barca mangio quello che mi pare non faccio niente perché così magari uno il biologico invece che fare due anni lo fa un anno il cortisone invece che fare i 25 milligrammi ne fa 12 magari fa l'infusione al mese anziché uno ogni settimana cioè cambia capito poi magari al biologico aggiungi un antivirale ti butta una cavolata se dentro tu a un biologico ci metti dentro il colostro quindi tu prendi semplicemente il colostro o dei monolauri cosa di cui poi parliamo che quindi abbatte la carica virale magari il biologico riesci a tenerelo per molto più tempo e non ti trovi poi ad arrivare a queste condizioni qui capito quindi noi non non ha senso ci sono il web diventa difficile da capire perché ci sono posizioni no mai non prenderò mai un antibiotico a costo di morire di procommonite oppure quelli a raffreddore giù di antibiotico cioè nel senso che anche se non serve a nulla cioè occorre come tutto soprattutto in farmacologia occorre buon senso no? cioè occorre dire valuto per ogni singolo paziente rischio e beneficio e soprattutto cerco di dare al paziente tutte le informazioni imparziali in modo che il buon senso e soprattutto il libero arbitrio del singolo paziente possano decidere ok? perché tante volte il medico non informa perfettamente di quelli che sono i rischi ti dice firma questo modulo di citazione di 1300 pagine ma tu sai che lo legge maggior parte non lo legge mette una firma e via capito? ma tante volte molte persone non sono informate dei rischi che corrono altre volte il biologico magari riusciamo anche a rimandarlo per esempio questo è un altro caso questa è un'altra sireologia virale diversa da quella di prima avevamo fatto la sireologia sia dell'herpes che della varicella sempre in prospettiva di un farmaco biologico ci siamo accorti che c'era un'importante riattivazione dei virus serpetici abbiamo fatto la semplice terapia antivirale vecchissima con ciclovir e la situazione è veramente migliorata tantissimo e quindi il biologico non è neanche servito quindi se l'alternativa al biologico può essere un paio di mesi di antivirale a volte può essere molto meglio insomma ecco quindi perché poi in questo caso si è fatto solo antivirale c'è nulla di antinfiammatorio c'è solo o esclusivamente antivirale quindi pelle è completamente cambiata ma cosa hai fatto hai tolto l'herpes o comunque hai ridotto il virus dell'herpes cioè per cui paradossalmente in questo caso nessuno si sarebbe messo a guardare le infezioni erpetiche aveva dato il biologico a bomba magari sull'immediato si poteva accettare un beneficio tempo tre mesi doveva interrompere la terapia e questa qua avrebbe avuto herpes dappertutto anche perché uno che ha sia l'attività che l'azionale è difficile vedere una forma diciamo di herpes diciamo a livello c'è proprio di essendo pieno già di isolone di corsetti ma anche perché tante volte queste forme sono proprio subcliniche quindi non arrivano mai a manifestarsi clinicamente quindi non vedi clinicamente il danno dell'herpes ma l'herpes sta lavorando a livello solo immunitario sta dando fastidio sta scatenando quelle reazioni che vedevamo all'inizio di tipo immunitario sta distraendo sta rubando l'energia a un sistema immunitario già in difficoltà senza farsi vedere e questo è il motivo per cui la serologia virale è importante perché clinicamente non ci si orienta allora si fanno gli esami del sangue quindi togli sicuramente vari effetti per dopo esatto poi clinicamente gli effetti ce li hai quando vedi che con la terapia antivirale paradossalmente ti migliora una dermatica topica allora capisci bisogna provare capisci che era quello il caso anche perché si sta un po' rivalutando un po' il discorso di infezione cioè mentre in passato le IgG erano solo segno di memoria le IgM di infezione recente adesso elevati livelli di IgG possono indicare una riattivazione virale quindi non fanno più parte della memoria immunologica non viene più dato per scontato che ci siano e che siano alti valori devono esserci il valore deve essere basso quando supera un certo valore vuol dire che c'è qualcosa che non va vuol dire che il virus ha ripreso a replicarci e il nostro sistema immunitario sta facendo qualcosa per arginare questa infezione però questo implica energie da parte del nostro sistema immunitario e quindi una propensione verso un tipo di agente infettivo da combattere e questo si ripercuote a livello di tante altre reazioni che spesso sono reazioni di patologie autoimmuni quindi magari intervenendo sull'infezione poi si hanno anche dei benefici a livello della patologia clinica il problema è che si va proprio in due direzioni opposte da un lato la terapia immunosoppressiva che sia cortisone che sia metotoxone che sia farmologica dall'altro invece bisogna combattere contro infezioni e quindi andare a rinforzare il sistema immunitario quindi proprio da due lati opposti e quello noi cerchiamo di andare in questo senso quando alcune volte cerchiamo di far coesistere anche una terapia che sta immunosoprimendo la persona perché siamo i primi ad essere consapevoli che la terapia farmacologica in alcune circostanze e in alcuni momenti va fatta però magari con criterio con consapevolezza sia di chi la propone sia di chi la subisce ecco a noi non piace quando la terapia viene proprio subita e non partecipata o condivisa ecco quello è un po' è un po' il discorso quali sono i segnali che dicono che è corretto o utile fare la serologia virale adesso lo spieghiamo infatti uno degli argomenti caldi di questa sera è proprio questo discorso della tipizzazione linfocitaria e della serologia virale allora tutto partirebbe da questo tipo di analisi allora normalmente noi cosa facciamo quando abbiamo delle casistiche dove ci verrebbe da pensare che ci possano essere infezioni o subinfezioni sotto e sta capitando sempre più spesso chiediamo di fare questo tipo di analisi che detta in soldoni è semplicemente una conta ok questa tipizzazione linfocitaria serve perché in pratica i linfociti che sono diciamo gli sceriffi per capire il cilestero immunitario e quelli che sono responsabili dell'immunità più importante dal punto di vista della selettività e dell'efficacia quelli che poi coordinano il movimento tutto il resto delle truppe in pratica si differenziano in base al tipo di nemico che devono combattere cioè ci sono dei linfociti che combattono meglio i batteri degli altri che combattono meglio i virus degli altri che combattono meglio i funghi degli altri che combattono meglio le allergie e viceversa allora che succede? succede che tutto il sistema tra di loro i linfociti comunicano attraverso queste interleuchine che sono quelle citochine che si diceva prima cioè è la maniera chimica in cui tra di loro i globuli bianchi si coordinano e a seconda di come sono coordinati un certo numero di linfociti aumenterà di numero si chiama popolazione aumenterà di numero e delle altre popolazioni diminuiranno di numero questa tipizzazione linfocitaria serve proprio per andare a contare quelli che si sono divisi in un certo tipo e quelli che si sono divisi in un altro tipo ci sono delle cellule linfocitarie che si chiamano naive nativi che quindi non hanno ancora visto l'antigene sono ancora vergini tra virgolette per cui sono quelli che poi a seconda di come si differenziano vanno a virare brutta parola virare no ci sta vanno a virare la risposta immunitaria però sembra virale virare no dai dai no non ci sta ok molto velistica vanno a virare la risposta immunitaria in un senso o nell'altro la tipizzazione è in pratica la conta e la messa in grafica di quello che è quel valore e in base al valore che noi troviamo possiamo capire se l'infezione o ancora meglio la subinfezione cioè quell'infezione non clinica è presente e sei di tipo virale batterico micotico o quello che è e quindi se sappiamo che è virale è ovvio che risposta alla domanda di Stefano la prassi successiva è andare a fare sierologia virale dei virus più comuni mentre se è batterica andiamo a chiederci che tipo di batteri possono esserci magari batteri entrati in contatto nel passato sintomatologie che magari qui non si dà importanza possono indicare delle subinfezioni febbriciatole da 37 a 2 tutte le sere possono indicare delle subinfezioni e qui ovviamente bisogna essere abbastanza bravi ad andare a fondo della vicenda cosa molto importante da sottolineare è che tutti i laboratori del mondo bene o male fanno tipizzazione linfocitaria fa parte di analisi abbastanza standard il come poi però gli esami vengono consegnati è importante questo tipo di esame fatto in questo momento a Monza e a Padova e si chiama il centro data medica da questo tipo di grafico qua che è bellissimo cioè per noi che lo leggiamo è molto bello perché ci dice ci mette subito le popolazioni che sono in eccesso quelle in difetto e ci sono dei quadri che noi possiamo confrontare per capire anche già che tipo di di invasione c'è non solo magari virus ma anche che virus ok capito perché è così importante questo esame perché poi ci indirizza dritti su quello che è il problema senza dover magari fare un altro miliardo di analisi senza dover andare a fare terapie a larghissimo spettro che magari fanno perdere molto tempo e non sono specifiche prego non è bassi se tutto fosse abbastanza medio andrebbe benissimo il problema è che se qualcuno è basso vuol dire che qualcun altro è alto ok cioè nel senso tutto medio cioè se tutto fosse nel perfetto mezzo del range vuol dire che va tutto bene se qualcuno è in eccesso molto ovviamente qualcun altro è in difetto se tutto è in difetto preoccupati tanto ecco questo è un esame che noi utilizziamo per quello che ci interessa per capire lo stato del sistema immunitario o per orientarci riguardo al tipo di infezioni ovvio che vedo utilizzo in tantissime altre patologie cioè è nato per fare diagnosi di HIV per gestire i linfomi le leucemie quindi ha veramente tante sfazzettature tante interpretazioni oltre a indicarci quale tipo di infezione ci dà anche proprio un'idea di com'è il nostro sistema immunitario ci sono dei sistemi immunitari molto reattivi dei sistemi immunitari che reagiscono poco anche quello ci fa capire un po' le caratteristiche della persona in quel momento e ci permette anche di monitorarla perché magari uno può fare una tipizzazione adesso si fa la terapia si impostano tanti accorgimenti si ripete dopo 3-4 mesi e si vedono delle grosse differenze e questo è anche un modo concreto per vedere se si stanno o meno ottenendo dei risultati allora ragazzi qua tocchiamo un tasto di cui sul libro ne parliamo abbondantemente però è importante da conoscere allora una delle cose visto che noi parliamo spesso di intestino e di efficacia del sistema digerente cioè moltissimo della medicina funzionale si rifà un perfetto funzionamento del sistema digerente e tutte le anomalie del sistema digerente visto che l'80% del sistema immunitario è nell'intestino ovviamente si ripercuotono sull'intero sistema immunitario anche sul 20% che non è intestinale questa SIBO o sindrome sindrome da sovracrescita batterica nel tenue ci indica un tipo di patologia che anche questa è pseudo sconosciuta che però finalmente ultimamente è sempre più all'attenzione di molti gastroenterologi e anche quasi quasi di molti medici di famiglia in pratica indica una crescita anomala di batteri nel tenue il tenue se il colon è ricchissimo di batteri e devono essere ricchi in varietà e in quantità il tenue soprattutto il primo tratto è quasi sterile perché è così? perché in pratica il cibo che esce dello stomaco che è già predigerito in realtà è ancora ricchissimo di sostanze nutritive per cui se ci fossero batteri e tanti nella prima fase del tratto digerente buona parte o comunque parte di quello che noi dovremmo assorbire verrebbe sottratto e rubato da questi batteri ok? mentre nel colon quello che arriva sono solo scarti perché ormai tutto quello che si poteva assorbire nel tenue è stato preso qui ci vuole che ci sia pochissima crescita batterica per due grossi motivi uno perché il metabolismo batterico è un metabolismo comunque erognoso cioè dove il batterio vi sottrae sostanze in primis che sono sostanze nutritive vitamine minerali e quant'altro lui poi elabora i suoi metaboliti dei suoi tossine comunque il batterio nasce cresce muore silisa e il suo succo citoplasmatico viene comunque riversato in una zona ad altissimo assorbimento e quindi ci sono tossine che vanno in giro arrivano al fegato comunque sovraccavicano tutti i sistemi di disintossicazione comunque c'è una fortissima produzione di stamina a livello del primo tratto del tenue per far fronte al metabolismo batterico comunque c'è una forte produzione di cortisolo quindi di corticosteroidi che servono per aiutare questa disintossicazione per cui in pratica un'elevata crescita tutto per farla breve se no ci facciamo un convegno sulla SIBO c'è un'elevata crescita batterica oltre a darvi questo classico gonfiore nella parte alta della pancia dopo che avete mangiato soprattutto cibi molto fermentabili possono darvi problemi endocrini problemi di assorbimento e problemi di allergie ok andando a sovraccaricare quella che è la vostra tolleranza all'istamina per cui è importante capire perché avviene questa SIBO se c'è farla fuori e poi andare avanti felici come delle pasque uno dei motivi principali per cui c'è SIBO è l'ipocloridria ipocloridria è una brutta parola ammetto che indica scarsa produzione di acido cloridrico a livello dello stomaco perché il primo tratto del tenue soprattutto è quasi sterile perché lo stomaco avendo un succo acido molto acido a pH 1 anche riesce a creare un ambiente praticamente sterile i salibigliari a loro volta hanno funzione disinfettante e soprattutto di risciacquo di questo tratto del tenue se viene tolto la cistifellea e quindi non c'è più una concentrazione sufficiente di salibigliari se lo stomaco non produce abbastanza succhi gastrici ecco che le condizioni di pseudosterilità che ci sono nel primo tratto del tenue saltano e quella zona proprio per elevata quantità di cibo di pappa buona diventano un buon punto di crescita batterica chiaro il concetto come si diagnostica si diagnostica al di là a livello clinico di questo classico gonfiore che è abbastanza caratteristico ci sono dei breath test quindi dei test fatti prendendo prima delle zuccheri specifici tipo l'atulosio per capirci o il glucosio stesso che in pratica prendi lo zucchero misuri dopo 10 minuti 1 ora 2 ore quello che è il gas che viene prodotto dai tuoi pomoni e trovare metano alcune caratteristiche aumenti della produzione carbonica ti fa pensare che lì ci sia delle cose che ci dovrebbero essere non è un test affidabile al 100% però può dare delle ottime indicazioni poi il gastroenterologo bene o male dovrebbe riuscire a capire se c'è una cibo oppure no se c'è cosa si fa normix cioè rifaximina antibiotico specifico per far fuori il primo cioè il bello della rifaximina è che non viene assorbita a livello intestinale per cui funziona solamente nell'intestino e non ha poi sintomatologie da antibiotico perché non passa all'uma intestinale se la trovate è meglio farla fuori vitamina D altro argomento di cui non potete più dai raccontatemi un po' della vitamina D vi ho un po' persi è la proteina del sole non so come finisce la proteina no non è una proteina no quella cosa lì è una vitamina vitamina sì vitamina adesso dai poi dai dalle informazioni non è una proteina ma che cos'è ma un ormone ci sono ormoni che sono proteine dai è una classe particolare di ormoni dai gli ormoni possono essere proteine in un momento che non è una proteina aminoacidi rimane il terzo gruppo dello steroidei ok i derivati del colesterolo questo è un ormone che finalmente viene assunto il ruolo di ormone però chimicamente è un derivato del colesterolo ok il colesterolo diventa di idrocolesterolo poi viene metabolizzato a colo e calciferolo a livello dell'epitelio quindi a livello di cellule della pelle attraverso l'azione dei raggi del sole poi viene metabolizzato a 0,25 OH vitamina D e poi a 1,25 OH vitamina D questo è il passaggio in pratica detta per farvi bestemmiare c'è un nucleo chimico particolare che si chiama ciclopentano periodofenantrene che è un gruppo di diversi anelli lo so si dice così per farli splendidi bisogna fare anche quello è un nucleo un po' particolare di anelli messi non proprio a caso ma con una specifica formula e in pratica attaccandoci gruppi OH di qua di su di giù o destro o sinistra si passa alle varie formule 0,25 OH vuol dire che in pratica sul carbonio 0 viene attaccato un gruppo OH e quindi diventa 0,25 quando è 1,25 viene attaccato un antro dall'altra parte per l'organismo capire cioè vedere questi gruppi OH significa saperli essere di fronte alla forma inattiva alla forma preattivata o alla forma attivata ok perché è importantissimo la vitamina D nelle malattie autoimmuni perché soprattutto nelle artriti nelle forme reumatoidi si denota una fortissima resistenza alla vitamina D in pratica siccome che la vitamina D non è una molecola on off ma è una molecola che è molto regolata nel suo metabolismo e ha una serie di catene enzimatiche che intervengono sia per attivarla e soprattutto quando è attiva va ad attaccarci a un preciso recettore che deve avere una forma specifica ci sono dei polimorfismi che voi sapete benissimo ormai che cosa sono che possono dare origine a degli enzimi che attivano non perfetti o dei recettori non perfetti quindi il risultato è che non ci troviamo ad avere un'efficacia della vitamina D molto minore di quella che dovrebbe essere quella biologica e questo è tipico di tantissime malattie autoimmuni il malato di psoriasi tendenzialmente ha una forte resistenza alla vitamina D il malato di artrite psoriasica ne ha ancora di più ok quindi noi cosa facciamo controlliamo sempre che ci sia un certo rapporto tra la vitamina D circolante che già è carente a livello comunque endemico con quello che è il PTH o parotormone perché in pratica il parotormone che è l'ormone delle paratiroidi e l'125 OHD cioè la forma attiva della vitamina D sono tra di loro antagonisti cioè ci deve essere un certo rapporto più è alta la vitamina D più basso deve essere il PTH se noi troviamo degli alti livelli di PTH anche in presenza di elevati livelli di .25 OH qua il ragionamento è un po' fino però cerco di spiegare quello è meglio ci può voler dire che o c'è un problema nella conversione tra la forma 0.25 e la forma attiva 1.25 visto che è un po' difficile misurare la 1.25 si misura la 0.25 oppure i VDR cioè i recettori ai quali la vitamina D si lega che sono proteine e quindi a una volta possono essere non perfette non sono quelli giusti ok? e quindi non riusciamo a ottenere l'efficacia biologica necessaria e siccome che i linfociti si regolano attraverso la vitamina D se non abbiamo abbastanza vitamina D attiva i linfociti vanno ad minchiam cioè perdono coordinazione di conseguenza esprimono delle citochine non corrette per esempio producono moltissima interleuchina 17 e poca interleuchina 10 ok? quindi ci troviamo ad avere una malregolazione di quello che è il sistema immunitario ed è per quello che noi insistiamo tantissimo sull'integrazione della vitamina D soprattutto nelle forme erotropatiche dove magari i dosaggi allora la media cioè l'RDA è 400 UI al giorno che è quella che è stata stabilita molti anni fa per prevenire l'architismo noi consigliamo 10.000 UI al giorno ok? quindi un dosaggio molto più alto rispetto ai 400 che si dà nell'RDA però tanti si spaventano perché 10.000 è molto più alto rispetto ai 400 però per farvi capire l'ordine di grandezza quando date al sole per 20 minuti il vostro organismo produce 20.000 UI di vitamina D per cui in realtà 10.000 sarebbe quello che voi producete in 10 minuti disposizione solare maniche corte e maglietta da maggio a settembre ottobre ok? questi 10.000 anche se per i sentimenti non sono riusciti a fare gli edami del sangue possiamo subito cominciare a prenderli o meglio prenderli più bassi? 10.000 sarebbe un dosaggio ancora ultra safe però a noi ci piace essere prudenti e non esporre nessuno a rischi perché non c'è dobbiamo essere corretti cioè la vitamina D è un'integrazione rischiosa rispetto sempre tra virgolette però non è come le vitamine B che è quello che è in più vengono eliminate la vitamina D avendo un forte effetto sul metabolismo del calcio quindi favorendo quello che è il riassorbimento di calcio a livello intestinale possono portare a forme di ipercalcemia che possono essere problematiche nel senso che il calcio in più viene eliminato a livello renale i reni hanno una limitata capacità di eliminare calcio sopra quella quantità succede come il filtrino del rubinetto a casa cioè ti si incosta solo che il filtrino lo cambi il rene è un problema quindi bisogna evitare che ci sia una ipercalcemia ovvio che l'ipercalcemia avviene con valori molto molto elevati però la massima tutela è quella di restiamo tranquilli evitiamo danni se facciamo l'analisi siamo sicuri che ci muoviamo in un range di sicurezza sappiamo che se sei carente fino che tu non superi l'80-90 nanogrammi millilitro sei in pieno dosaggio sicuro normalmente la media è 15-20 per cui c'è un ampio margine se vogliamo stare tranquilli senza analisi noi consigliamo 5.000 ha maggior ragione questa è una domanda che tu sai che conosci benissimo però mi fa piacere che l'hai fatta allora ci sono persone che con i 10.000 ui al giorno comunque le forme di resistenza soprattutto le forme artritiche non sono ancora abbastanza allora bisogna alzarsi oltre 10.000 diciamo che fino a 20.000 siamo ancora in non necessità soprattutto in persone resistenti di fare grandi cambiamenti di dieta e quant'altro ma oltre c'è un protocollo specifico che Leonardo Rubini ha spinto molto per portare in Italia che è il protocollo Coimbra dove ci sono persone che fanno anche 300.000 ui al giorno cioè quindi dosaggi estremamente elevati però sono fatti in un contesto medico molto preciso e molto seguito con una dieta particolare che bevendo acqua particolare senza calcio in cui praticamente qualsiasi introito di calcio viene minimizzato e ci sono persone che hanno una tale resistenza alla vitamina D dove bisogna arrivare veramente a questi dosaggi perché funzioni un attimo una volta abbiamo visto che nei malati di malattia autoimmuni cioè tra virgolette tante volte li sospendere la vitamina D nei giorni che vai a prendere il sole comunque fa crollare il dosaggio l'ideale sarebbe secondo me tenere sempre quei 10.000 il tuo organismo sa benissimo che quando ne ha abbastanza smette di produrne c'è un feedback negativo dove raggiunto il livello di produzione massima per la giornata la produzione si interrompe ci sono fialette da 25 da 100 da 300.000 se parliamo di di base l'assunzione ideale di vitamina D è giornaliera non mensile quindi c'è questa vecchia maniera di dare i boli in realtà non funzionano bene perché si assorbono male e hanno un'emivita di 24 ore è meglio che lo stesso se il medico non vuole darvi di più perlomeno giornaliero è molto più efficace poi lo che a te la vitamina D in Italia si trova o come integratore lo fa la Solgar la fa la Metagenics in 2000 però la forma principale che si trova in Italia è il di base che è un farmaco vero e proprio quindi perché questa è un'anomalia italiana all'estero è un integratore in Italia è un farmaco quindi vabbè insomma sempre a fare le esattine è così grazie a Dio c'è l'Unione Europea il mercato unico e problemi non ce ne sono cioè in Italia di base goccine all'estero ci sono compresse 10.000 UI standard ci sono qualsiasi dosaggio e meglio in capsule stessa roba l'importante quello che conta è il dosaggio e poi ci sono dipende anche dall'olio con cui vengono sciolte la vitamina D è liposolubile e viene preparata sciogliendolo in grassi ok per cui può essere olio di girasole che può essere fiammatorio olio di oliva con diverse qualità di raffinazione l'anolina con cioè c'è qualcuno che ha problemi con la vitamina D non tanto per la vitamina D in sé quanto per l'olio vettore in cui è sciolto quindi trovate la forma che non vi dà fastidio scusa mi tocca a te invece la vitamina D per assorbire meglio la vitamina D per assumerla meglio e la vitamina B12 non c'entra non c'entra no la vitamina D si assorbe meglio con la vitamina A paradossalmente visto che utilizzano la stessa proteina elegante e si assorbe meglio in un pasto ricco di grassi essendo ovviamente liposolubile si soglia meglio in un vettore se tu mangi diversi grassi e si assorbe meglio con pasti abbondanti in di base sono 40 gocce fai fuori nel boccetto in 5 giorni dopo ti fai prima fai le farmacie del quartiere perché non te le danno più dopo ti fai quelle della città e poi vai in trasferta a cercarle allora è meglio che apri Amazon ci sono pacchi all'estero vendono 365 capsule da 10.000 UI quindi uno al giorno se è posto per un anno a 20 euro F-Origin 30 Nutrition 20 la Solgar allora la Solgar è una casa di qualità eccessa cioè fanno degli integratori veramente buoni americana mi sembra ma non vorrei sbagliare però costano un patrimonio cioè e dopo c'è il problema che la Solgar in Italia ovviamente ha i limiti italiani per cui la vitamina D Solgar in Italia è limitata dal Ministero della Salute se la compri in Inghilterra non ha più questo limite prego aspetti un attimo una domanda se noi abbiamo a casa la vitamina D già 2005 mai protein c'è la 2005 se ne prendiamo 2 5.000 5.000 7.500 è matematica giuro D3 con il calciferolo il D2 o ergo calciferolo è la vitamina D vegetale anche le piante è talmente importante come sostanza che anche le piante la usano come ormone però è un'altra forma leggermente diversa è la D2 cioè noi abbiamo un metabolismo che può trasformare la D2 in D3 però è sconsigliata usa quell'animale visto che grazie a Dio facciamo anche se sei vegana fai parte del regno animale non tu ma dico in generale ok là in fondo nu nutrition amazon nu napoli udine nutrition 10.000 19.60 euro si si va bene uguale uguale sempre uguale l'unica roba che mi provate secondo me costa sulla vitamina D al direi che ha le perline 2500 che sono un po' una palla e costa per me di più rispetto ai 20 euro 10 ma però se va bene come prod me frega niente bella domanda il valore ottimale è quello che ci porta il PTH vicino al range minimo per qualcuno potrebbe essere 50 per qualcuno potrebbe essere 60 per qualcuno 90 per qualcuno 120 la cosa difficile è che anche lì bisogna trovare persone esperte in integrazione di vitamina D e non è facilissimo prego perché allora ho un altro bambino uscito dall'ospedale mi hanno ordinato questa vitamina D a un bambino che aveva 48 ore si dà sempre è importantissima torno a casa compro un figlio compro di tutto di più leggi le indicazioni far qualcosa da al bambino al risorso dei 3 anni si dà aspetta come si chiama all'inizio c'è vitamina D vitamina K è una buona cosa perché per la vitamina D per un bambino è ancora più importante e siccome che non passa con l'ate materno non è un brutto gioco integrarla anzi ci mancherebbe nella giusta misura perché per un bimbo appena nato quattro gocce cioè due gocce ogni torno giorni sì sì così quindi dale anche al secondo no la presa in gravidanza prendila anche mi raccomando che hai maggior ragione il PTH o paratormone è l'ormone prodotto dalle paratiroidi funzione biologica del paratormone è quello di prendere il calcio delle riserve osse e portarlo nel sangue per mantenere un livello adeguato di calcio tessutale con il paratormone cioè tu misuri il PTH proprio immaginati adesso visto che fai la domanda facciamo anche lezio magistrale sul calcio allora il calcio è un sale minerale fondamentale perché interviene in miliardi di cose tra cui anche la scontrazione ossea per esempio nel passaggio dei tessuti degli stimoli nervosi per cui è fondamentale che il calcio rimanga sempre in un certo livello non può essere né sopra né sotto quando è in più viene eliminato quando è poco bisogna farlo arrivare qual è nell'organismo il tessuto deposito osseo l'osso è il luogo in cui tutto il calcio viene stipato se c'è una carenza di calcio a livello ematico tessutale c'è un meccanismo che è proprio questo pdh che serve per prendere il calcio della banca del calcio e riportarlo in circolo mentre la vitamina d fa la cosa contraria che non è proprio corretto ma prendila così quindi la proporzione deve essere di alta o basso deve essere di giusta e pdh giusto cioè non è bravo hai capito che c'è qualcosa che non va vuol dire che il tuo organismo essendo in carenza di calcio ematico continua a utilizzare il calcio di deposito poi ti trovo cioè adesso non è il tuo caso però moltissime donne o persone che soffrono di osteopenia e quindi poi a lungo andare osteoporosi è perché non hanno mai controllato il paratormone e magari sono rimasti per 20 30 40 anni in continuo recupero di calcio dalle ossa chi ha forme artritiche spesso e volentieri ha dei paratormoni cronicamente elevati capito qual è il concetto infatti di solito chi soffre di forme artritiche ha più di una malattia autoimmune crociata magari spesso è artrite e psoriasi oppure artrite e psoriasi e poi diventa spondidoartrite ok chiaro siamo d'accordo due te ne faccio però poi quello che è classico è osteopenia precoce magari vai a fare una moxia e vedi che c'è una desistometria ossea bassa e poi osteoporosi precoce è un po' parte del quadro classico del basta vitamina D paradossalmente già con quella ti pari il popolo basta finito domande su vitamina D in caso di osteopenia è necessario più vitamina D in caso di osteopenia allora è più complicato di così nel senso che quello che i meccanismi di fissaggio calcio nell'osso dipendono da quanto usi le ossa cioè a quanto carico sei sottoposto più carico tu metti nelle ossa più lui si calcifica gli astronauti anche se sono sani quando vanno in gravità zero per tre mesi tornano con un calcio con delle ossa molto più rarificate proprio per la mancanza di carico sulle ossa poi se sei basso in proteine visto che comunque la base della sintesi ossea parte attraverso un ancoraggio su delle proteine se sei basso in proteine è difficile sintetizzare il nuovo osso e poi ci sono altri ormoni che intervengono come la calcitonina come la vitamina K2 il voro altri fattori che favoriscono è calcificazione ossea spero di averti risposto in maniera esaustiva perché solo su questo potremmo fare un altro convegno come fai a fare tutti questi esami i medici non te li darà male ma no le fai nel senso che la densitometria ossea PTH e calcemia sono esami standard non è un problema io per esempio un paio d'anni fa ho fatto la testimoniatria ossea e avevo il nostro appenio un po' più meglio è già una buona appenia ecco quello è un campanello d'allarme ecco perché di solito qual è il problema della medicina è che non è preventiva cioè ti si dice aspetta quando sarà osteoporosi ci preoccupiamo no? cioè tutto quello che si poteva fare nel mentre per evitare di finire là non si fa eh male eh lo so però è così cioè allora come si fa allora si aumenta la dose di vitamina D si comincia a utilizzare vitamina come si aggiunge si abbina la K2 e la vitamina D si fa sport pesanti in cui si caricano un pochino le articolazioni si mangiano proteine di buon livello e in mancanza di patologie genetiche o problemi tipo le FH H o via così di norma si ottengono dei buoni risultati cioè l'osso si calcifica grazie Riccardo perché? la vitamina C ha un problema cioè il suo progetto dosaggio favorisce la formazione di ossalati ok quindi l'ossalati insieme al calcio quando è eccessivo a livello renale fanno i famosi ossalati di calcio che sono i calcoli renali quindi ci vuole un'accortezza buon senso equilibrio aureo mezzo non esagerare né con l'una né con l'altra ma problemi grossi magari bere in abbondanza acqua e poi avere di calcio insomma di certo sì grandi problemi non ce n'è potrebbe magari non voglio tenere un po' di più lunga ma chiarire il discorso della vitamina D dell'estate cioè il fatto che quando c'è estate la vitamina D teoricamente aumenta oppure se è vero che l'inverno quando assorbiamo poca vitamina D la nostra è peggiore bravo ho capito cosa vuoi dire sì questo è importante esattamente magari il contrario perché alcuni invece in estate peggiorano infatti fa parte di quei ragionamenti che noi facevamo alla fine del percorso quando dati tutti i fattori allora uno poteva capire un po' di più però giusto per anticipare perché ormai è bella così cioè una delle prime domande che facciamo a chi viene da noi in ambulatorio è chiedere ma voi la psoriasi d'estate migliora o peggiora cioè chi risponde chi fa parte del suo insieme A noi sappiamo benissimo perché perché chi migliora d'estate è perché spesso e volentieri ha bisogno di più vitamina D rispetto agli altri quindi visto che con i primi effetti del sole oltre a mille altri è proprio quello di fare vitamina D ciò ci fa capire che probabilmente ci troviamo in base a una carenza chi d'estate peggiora invece può darci chi abbia particolari problemi nel gestire quest'altro fattore che era il prossimo della lista che è quello dei radicali liberi è una persona che ha invece tutti i due gli aspetti cioè possibilissimo infatti pensa che bastire che abbiamo tirato Stefano per tirarti fuori una cosa non esclude l'altra esatto il corpo d'estate sta meglio e l'inverno sta peggio le mani a maggio cominciano a peggiorare essendo state bene queste sono mani ridotte così solo da fototerapia questa è la stessa mano solo sospesa la fototerapia quindi questo è un esempio di caso in cui la fototerapia alle mani non ha fatto bene ma la fototerapia non è così semplice non tutto è così semplice come allora il sole contiene un ampissimo spettro di frequenze quelle che le lampade a banda stretta va a mimare e la 613 nanometrica è l'uvb a banda stretta questo uvb è il massimo raggio che sintetizza la vitamina D e tra l'altro causa una migrazione dei macrofagi negli strati più profondi del derma quindi ha un doppio effetto da una parte fa produrre molta vitamina D dall'altra mitiga la risposta autoimmune a livello del macrofago però qual è il problema? che come tutti i raggi ultravioletti scatena una forte produzione di radicali liberi perché fa proprio parte della radiazione ionizzante che è l'uvb quindi che succede? succede che quando noi facciamo questi tipi di trattamenti o paro paro andiamo al sole il nostro organismo produce molti più radicali liberi e allora noi possiamo avere una buona capacità di gestirli oppure una pessima capacità di gestirli se abbiamo una buona capacità di gestirli vuol dire che abbiamo una cosa che si chiama barriera antiossidante che è sufficiente per neutralizzare i radicali liberi se invece soffriamo particolarmente di queste dinamiche è perché la nostra capacità di resistere quindi di avere la nostra quantità di antiossidanti non è sufficiente quindi i radicali liberi possono cominciare il loro processo di anneggiamento delle strutture che è questo qua la radicale libera attiva il sistema immunitario non a caso oltre ad attivarlo è una delle principali armi che il sistema immunitario utilizza per combattere le infezioni ed entriamo nel circolo vizioso di cui le forme palmo-plantari sono particolarmente collegate facciamo giusto per finire il discorso sui radicali liberi come si può fare per stare meglio con i radicali liberi noi di norma chi ha questo peggioramento durante il cambio di stagione e poi nella fase estiva consigliamo di fare una terapia cioè una terapia un'integrazione a tappeto con i radicali liberi cioè con gli antiossidanti per contrastare i radicali liberi di norma cominciando già verso febbraio marzo con vitamina C OPC chi può permettersi un 70 euro al mese glutatione liposomiale ci consente di alzare incredibilmente la nostra capacità di tollerare i radicali liberi per cui ci consente di andare al sole senza più avere i danni del sole oppure di dover fare un ciclo di lampade senza più avere i danni da lampade esempio stupido c'era una coppia l'altra volta la serata di Bologna che ci aveva detto noi ogni anno andiamo al sole ed è un dramma quest'anno cioè l'anno scorso avendo seguito i consigli avendo cominciato con febbraio marzo appalla con gli antiossidanti quest'anno nessun problema né di allergie né poi di radicali liberi al sole per cui si può fare qualcosa per contestare radicali liberi poi come farlo le sostanze sono queste le migliori l'ipoico acido l'ipoico se siete come me endomorfi quindi tendete a essere sui non resistenti a mettere su peso invece meglio ancora OPC vitamina C se siete ectomorfi cioè tendete già a essere magre di vostro il lipoico è ipoglicemizzante per cui tende a portare ancora più giù la glicemia cosa che magari per me va bene per altri no quello è il top l'illutazione è il principe radianti ossidanti è quello che il nostro organismo produce per combattere radicali liberi cioè è proprio quello che il nostro organismo produce spesso e volentieri se ne siamo carenti e ne siamo molto in carenti averne in più durante queste fasi è molto comodo non lo trovi no neanche in pastiglie perché in pratica il glutatione viene digerito a livello dello stomaco di conseguenza la maggior parte delle forme che tu trovi in giro in realtà non funzionano perché vengono digerite nello stomaco e saluti e grazie le uniche due forme funzionanti sono o liposomiali cioè sono delle bustine di un gel in cui il glutatione è insacchettato dentro dei liposomi e quindi passano lo stomaco tranquilli oppure il TAD intra muscolo salti completamente il tratto digestivo e lui va in circolo se ti fa schifo il gusto c'è anche l'iniezione intramuscolare allora noi consigliamo di fare dei cicli durante il cambio di stagione cioè di fare due scatole febbraio-marzo metà febbraio metà aprile ok c'è questi mesi qua e magari una settimana dopo andare al mare poi se puoi spendere e prenderlo sempre è un elegire di lunga vita ecco bravi per i poveri per i poveri bravo che mi ricordi vedo che pubblico attento per i poveri c'è la variante NAC siccome che spesso e volentieri la sintesi il nostro organismo sarebbe capace di farci la glutazione però spesso e volentieri gli manca la cisteina o comunque la cisteina che è la forma diciamo che è uno dei tre mattoncini che la costituiscono su MyProtein si trovano la NAC costa tipo 20 euro al chilo per cui vai avanti per anni con 20 euro prendi quella e normalmente il livello di glutazione si alza perché il tuo organismo se lo fa da solo il problema è che non si alza tanto quanto lo fa con l'ovvio però insomma se con 20 euro eh boh ci siamo capiti sicuramente male non ti fa però la NAC può dare un po' di problemi di gastrite per cui insomma da stomaco pieno a stomaco pieno e con accortezza altresi detto Fluimucil cioè Fluimucil è NAC ok continuando con l'elenco dei fattori scatenanti col lungo elenco ci sono i farmaci e qui trovate alcuni dei farmaci che possono scatenare per la prima volta la psoriasi oppure esacerbare la psoriasi in chi già ha avuto delle reazioni capire quando il farmaco è responsabile è molto difficile perché alcuni farmaci danno una reazione immediata danno l'eruzione psoriasiforme nel giro di qualche giorno altri farmaci invece danno scatenano il danno a distanza anche di 4-12 settimane alcuni come alcuni tipi di fans la danno anche oltre i 3-4 mesi quindi diventa veramente difficile trovare una correlazione tra il farmaco o avere una certezza riguardo questa correlazione ci sono dei farmaci in cui ci hanno parecchi casi in letteratura riguardo l'associazione farmaco psoriasi tipo litio e betaboclanti i primi che vedete altri in cui in letteratura vengono riferiti solo singoli casi di eruzione psoriasiforme dopo l'assunzione del farmaco stesso quindi è veramente difficile stirare un elenco di quelli che sono i farmaci associati a psoriasi è una cosa un po' particolare che spesso ci sono stati episodi di reazioni psoriasiforme causate dagli stessi farmaci che si usano per curare la psoriasi tra cui la ciclosporina e l'infliximab queste sono le foto di un caso che abbiamo visto in ambulatorio di una persona che era stata trattata con infliximab e che ha scatenato questa reazione psoriasiforme la diagnosi di psoriasi è stata fatta con la biopsia cutanea e alla semplice sospensione del farmaco e alla sostituzione della terapia con cortisone per la patologia infiammatoria cronica dell'intestino per cui era curata era un pro l'eruzione psoriasiforme è completamente regredita insomma quindi bisogna veramente tenere sempre gli occhi aperti e non dare per scontato che se una terapia farmacologica prevede tra le indicazioni anche la psoriasi possa essere in quel caso utile a curarla perché alcune volte la può aggravare ma nel mio caso in quest'ultimo mese mi è peggiorato notevolmente però mi sembra di non aver sbagliato niente hai letto l'articolo sul cambio di stagione? sì no male vai a leggerlo il cambio di stagione ma il primo anno non mi capita no il discorso è questo se una persona prende dei farmaci se ha un'anamnesi farmacologica positiva è il caso di valutare che anche nel caso di un farmaco possa essere responsabile quando ci fa bisogna tenere presenti i farmaci fatti al momento e andare un po' a ritroso nel tempo anche di 4-5 mesi cioè nel tuo caso è un po' dura magari ma adesso è cominciato le linee guida quest'anno l'anno scorso no è rimigliorato e poi si è ripeggiorato adesso diciamo io quest'anno è stato il primo anno in cui ho visto un'esplosione diciamo sulla terra fino a prima nessun cambiamento stabile prima avevo una cosa coincidante un po' comunque ma era limitato magari poi ne parliamo un attimo perché se no non voglio stare un'ora sul tuo caso continuando tra i fattori scatenanti abbiamo messo anche insulino resistenza perché ovviamente chi ha un fenomeno di insulino resistenza vuol dire che produce più insulina finché venga assorbito e metabolizzato il glucosio il problema è che l'insulina è un ormone che scatena e mantiene l'infiammazione e quindi anche andare a lavorare sia attraverso la dieta che con integratori visto che Paolo ha appena citato l'acido alfa-lipoico è un modo per ridurre questa tendenza all'insulina e quindi ridurre uno dei fenomeni infiammatori questi sono casi di eruzioni psoriasiforme in cui si è andato a lavorare molto sull'insulino resistenza l'attività fisica è molto importante ti risponde Riccardo è importantissimo abbiamo visto la coincidenza negli anni in cui mollava un po' lo sport e peggervava parecchio più tu fai sport no al di là che è emotiva è quello che può essere però più tu fai sport soprattutto se fai sport di un certo tipo che vuol dire magari anche sport pesante o comunque è quello che tu ottieni è un miglioramento netto della tua sensibilità all'insulina quindi per riuscire a metabolizzare la stessa quantità di glucosio magari serve metà dell'insulina che ti serviva prima e di conseguenza metà insulina uguale a metà infiammazione quindi non serve essere di alitici per avere una diabetica no moltissime persone sono resistenti all'insulina e non sono diabetiche con il carico insulinico cioè tu fai la curva glicemica sì non solo glicemica perché se tu fai solo la curva glicemica vedi quanto glicemia si muove a parità di certa quantità di glucosio ma la cosa più importante è misurare quanta insulina ti serve per ottenere un certo abbassamento di glucosi ok nel senso che se per abbassare i dieci punti ti serve uno di insulina è una cosa se ti servono cinque di insulina vuol dire che adesso deve produrne molto di più per poter gestire le stesse quantità di glucosio poi le cellule diventano sempre più resistenti e via così e certo poi arrivi al diabete tipo 2 anche qui torniamo al discorso dell'osteopiania cioè nel senso che ha senso aspettare che sia un diabete 2 conclamato per muoversi magari meglio prevenire allora che cos'è l'istamina l'istamina è un metabolita di un aminoacido che si chiama istidina a cosa serve l'istamina l'istamina è come una bandiera rossa per il sistema immunitario che in pratica chiede l'intervento del discorso molto importante anche per te con l'asma che richiede in pratica l'intervento del sistema immunitario in una zona specifica esistono persone e i malattie malattie autoimmuni sono specificatamente tra questi e soprattutto i malattie di dermatite che tendono ad avere una eccessiva sensibilità all'istamina o per dire altre parole una tolleranza all'istamina estremamente scarsa cioè basta pochissima istamina e il sistema immunitario si sovrattiva dando problemi agli epiteli quindi pelle quindi epiteli respiratori quindi naso asma e quant'altro o epiteli intestinali ok questi sono i grandi epiteli quindi l'istamina che cosa che cos'è in pratica è una sostanza che ha due vie di ingresso nell'organismo o viene perché la troviamo dentro i cibi che mangiamo oppure si fa perché il nostro organismo la sintetizza attraverso lo stimolo di allergeni esterni che possono essere ambientali allergeni alimentari che sono quelli che tu introduci oppure allergeni a contatto che sono quelli che tu contatti ok questo è un po' il suco del discorso allora per esempio ci sono alimenti come le proteine fermentate che possono essere salmone affumicato pesce in scatola carne in scatola che hanno delle proteine della carne o del pesce che vengono conservate per lungo tempo e i batteri fermentano l'istilina che è l'aminoacido di queste proteine e le trasformano in istamina quindi cibi che sono naturalmente ricchi di istamina poi ci sono altri cibi che non hanno istamina di sé però stimolano l'organismo a produrre istamina e questi sono fragole chiui agrumi banane le solanace diversi tipi di frutta e di verdure e bene o male sono elencati lì poi esiste una terza categoria di alimenti che sono quelli che bloccano il DAO il DAO è l'enzima che in pratica a livello alimentare quindi nel tratto intestinale degrada l'istamina tè nero tè verde caffè alcol possono bevurre tutte oggi vero possono bloccare il DAO e quindi far aumentare il tasso di istamina che viene assorbita altra cosa molto importante l'istamina di per sé diciamo ha una curva di una variabilità che è assolutamente personale perché praticamente in base al pattern enzimatico cioè agli enzimi che noi abbiamo a disposizione tra cui per esempio l'MHTFR ci dà una maggiore o minore tolleranza ho capacità di gestire quella che è l'istamina quindi il ragionamento qual è che se per esempio durante l'inverno quando le piante non fioriscono e non fanno allergeni la nostra istamina questa è la nostra curva di tolleranza qui c'è l'istamina del cibo qui c'è l'istamina del materasso o dei detersivi magari d'inverno stiamo bene perché l'istamina circolante è più bassa di quella che è la nostra curva di tolleranza però facciamo finta che a marzo aprile anche le piante decidono di andare a fiorire e di conseguenza il nostro organismo che è sottoposto all'azione di pollini quindi allergeni ambientali produce istamina anche contro questi allergeni e di conseguenza supera quella che è la soglia di tolleranza scatenando quella che è la pavoplantare piuttosto che la psoriasi normale piuttosto che le ramatite atopiche soprattutto quelle estrinseche cioè quelle collegate all'IgE perché in pratica la nostra capacità di sopportare questa molecola è stata superata allora uno che cosa può fare? può cercare di controllare i parametri che può controllare perché ovviamente non si possono impedire le piante di fiorire a meno che uno non vada a trasferirsi in pieno deserto in modo tale che ci sia solo sabbia e anche lì potrebbe avere problemi ma può agire su fattori che può controllare che sono i cibi che può mangiare quindi stando particolarmente attento nei campi di stagione a quelli che sono gli alimenti più ricchi di stamina o comunque più stimolanti dell'istamina stare molto attenti a quelli che possono essere gli enzimi che bloccano il DAO oppure aiutarsi attraverso ribes nigrum curcuma o sostanze che sono tra virgolette definite adattogene quindi sostanze che migliorano la nostra curva di tolleranza per cercare di mantenere la quantità di stamina circolante più bassa di quella che è la nostra capacità di sopportarla è un potentissimo antiossidante perché i radicali liberi sono sostanze che insieme all'istamina attivano pesantemente il sistema immunitario per cui agendo cercando di mantenere più bassa possibile l'istamina più bassi possibili radicali liberi uno ovviamente ha molte probabilità di passare indenne o di limitare i danni durante il periodo del cambio di stagione altra cosa importante qua ci facciamo una riflessione sul discorso della medicina moderna il problema principale è che avete visto quanti fattori abbiamo toccato oggi abbiamo parlato di nutrizione abbiamo parlato di endocrinologia abbiamo parlato di infettivologia abbiamo parlato veramente di tantissime cose per cui vedete come tante volte l'enorme specializzazione di un medico che magari fa solo dermatologo di un medico che fa solo endocrinologo in realtà tante volte facciamo perdere quello che è il quadro generale ok cioè quello è la cosa molto importante perché le malattie croniche in realtà possono essere sinonimo o sintomo di un'alterazione di altre dieci cose che non vanno e se non c'è un professionista che è in grado di valutarle tutte io dico che giriate per 550 medici non combinate mai la mazza ok quello è il concetto di un'alteramento che早i Grazie a tutti.